Allora, parliamo di linguaggio e la prima cosa che viene da dire è che comunemente si dà per scontato perché è istintivo, che chi non parla non capisce. In realtà chi non parla non parla, punto. Quello che capisce o quello che non capisce è comunque da verificare e diventa importante, mamma mia questo telefono, e diventa importante allora recepire le comunicazioni decodificando il significato, cioè capire un pochettino che cosa ci viene comunicato. Anche perché chi vuol comunicare non è capito, chiaramente può avere problemi comportamentali molto maggiori legati al disagio di non riuscire a comunicare. In linea di massima, riuscire a comunicare, incoraggiare la comunicazione. Io mi ricordo quando sono usciti in metropolitana quei giornalini della free press che distribuivano gratuitamente. In quel periodo io seguivo un corso sul giornalismo e quindi ho chiesto, ma questo porta via clienti ai giornali? No, mi è stato risposto. Questo porta più clienti ai giornali perché siccome quello dà soltanto le notizie di agenzia molto sintetiche, chi vuole avere qualche informazione di più, il giornale lo va a comprare. Allora, tornando a noi, è importante cercare di capire e interpretare quello che il bambino nella fattispecie tenta di dire e riproporghelo in modo corretto. Questo lo dico in funzione del linguaggio. Se un bambino mi dice un nome storpiato, glielo ripeto corretto, lo impara giusto. Se mi dice una frase pressa poco e gliela ripeto ben strutturata, gli do un modello che poi imiterà. Quindi riproporre in modo corretto la comunicazione che riusciamo a percepire è un aiuto anche perché dà un'indicazione su come poi andare avanti. E quando abbiamo difficoltà a capire quello che i bambini ci dicono, teniamo conto che i coetanei sono degli ottimi interpreti perché ragionano da bambini ma conoscono le esigenze degli adulti. Vabbè, adesso qui c'è la cenetta che non ha importanza. Scusami un attimo Lulena, io non riesco a vedere le tue diapositive. Io vedo solo quelle. Voi le vedete? No, non si vedono. Allora, come mai? Io vedo solo diapositive e non vedo voi. Allora, beh, sentite. Se anche non mi sentite, mi sentite però. Sì, sì, sentirti ti sentiamo. Che è quello che conta poi alla fin fine. Tanto leggere non ha grandi... non so come fare allora però. Comunque, negli anni Sessanta c'è stato un centro a palo alto che si occupava di comunicazione. Il capostipi era Paul Watzlawicz e avevano definito alcuni criteri. Il primo assioma della comunicazione che diceva non si può non comunicare. Il fatto stesso di esserci, di non esserci, di avere gli occhi aperti, di avere gli occhi chiusi, ok? Dà una serie di comunicazioni. Il secondo assioma della comunicazione era che ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto, quello che vi sto dicendo, e un aspetto di relazione, come ve lo dico. Chiaramente, il secondo ci permette di capire, di decodificare il primo. È quella che si chiama la metacomunicazione. Il terzo assioma della comunicazione dice che la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti. Velo a dire, secondo chi parla prima che cosa dice, può acquisire un significato diverso a quello che viene detto. Comunque, abbiamo una comunicazione che può essere sia verbale che non verbale. Oggi ci occupiamo prevalentemente di quella verbale, ma non possiamo dimenticarci che esiste anche quella non verbale. Anche perché ogni canale di comunicazione rafforza gli altri. Non si escludono la vicenda, ma si rinforzano. Tornando a noi, il linguaggio parlato è una delle caratteristiche tipicamente umane, come la deambulazione retta e tipicamente umana, la manualità fine, la lettura, la scrittura, che chiaramente sono un'applicazione del linguaggio, della differenziazione destra-sinistra, dell'astrazione e via di seguito. Un'altra cosa che è importante è ricordarci che la spinta a crescere è essenzialmente un fenomeno vitale. C'è la crescita fisica, il peso, la statura, le competenze motorie. C'è anche una crescita psichica di relazioni, di socializzazione e anche una crescita linguistica. Uno impara prima a vocalizzare, poi a dire qualche parola e via di seguito. Di questo poi parleremo dopo, in parte ne parlerò io, in parte ne parlerà anche la dottoressa Mazzocca, che ha una specificità proprio su questo. Nel linguaggio la spinta a crescere consiste quindi nell'apprendimento di suoni e parole, nella loro combinazione in frasi. Poi la correttezza grammaticale e l'arricchimento lessicale e la struttura anche sintattica del linguaggio e da ultimo l'utilizzo anche di termini astrati che arrivano dopo. Inizialmente c'è il riconoscimento degli oggetti e la loro comunicazione, questo è un livello cognitivo. Poi c'è il riconoscimento delle immagini, delle immagini fotografiche e delle immagini simboliche. La loro generalizzazione e a questo punto si può cominciare a parlare anche di scrittura. Poi le domande, i perché, le astrazioni, fino ad arrivare chiaramente al pensiero filosofico. Se voglio parlare una lingua, devo conoscerla. È inutile che io provi a parlare il turco perché non lo so proprio. Quindi, prima di parlarla, devo poterla ascoltare. E quando si comincia a ascoltare e come? Molto presto. Allora, teniamo conto che già nel terzo mese di gravidanza, terzo mese di gravidanza, comincia a strutturarsi la coclea, che è l'organo dell'udito, diciamolo grossolanamente. Al settimo mese, il feto risponde a stimoli uditivi. Le mamme lo sanno, stimoli improvvisi, eccetera. Ci sono reazioni da parte dei feti. Quindi, già prima di nascere, uno ascolta. Ecco, qui, 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 no. Allora, qui, se voi non vedete le diapositive, ho uno schema di orecchio che chiaramente non vi posso mostrare. Vediamo se riesco a chiudere. Vediamo se riesco a chiudere e a ricominciare. Dunque, fine presentazione, vediamo qua. Allora, questo è uno schema dell'orecchio. Quello in giallo è l'orecchio cosiddetto esterno. Il padiglione dell'orecchio e, chiamiamolo, il buco dell'orecchio. Qui c'è azzurrino, piccolo piccolo, la membrana del timpano, che trasmette le vibrazioni acustiche alla catena degli ossicini, che sono questi, rosso, verde, quelli, che sono il martello, gli incudini, la staffa. E da qui, dalla finestra ovale, gli impulsi vengono trasmessi, per quanto riguarda l'udito, alla coclea. Questo, invece, è il vestibolo, sono i canali semicircolari che presiedono un pochettino al senso dell'equilibrio. Io adesso vado avanti un po' velocemente, perché queste cose qui, al limite, le rivediamo. Quindi, l'orecchio esterno, l'orecchio medio e la coclea, va bene. C'è un problema che gli stimoli acustici vengono trasmessi poi dall'orecchio, qui dalla coclea, vengono trasmessi alle zone cerebrali deputate all'analisi del linguaggio, in parte dalla stessa parte, in parte dall'altra parte, dall'altro lato. Quindi, in parte sono omolaterali, in parte sono controlaterali. E andiamo avanti. E andiamo avanti. L'attivazione, appunto, di queste zone corticali deputate all'analisi del linguaggio comparirebbe già alla nascita. Il bambino già ascolta. Ci sono anche gli stimoli linguistici, vengono elaborati prevalentemente a livello dell'emisfero cerebrale sinistro, non subito, ma poco per volta. Andiamo ancora avanti. La tuba di ostacchio, che qua si vede male, è questo canale qua, che mette in collegamento l'orecchio medio con la faringe. Allora, perché mi interessa questo? Perché nei bambini è più orizzontale e più sottile, il che vuol dire che quando c'è raffreddore, ristagno di muco nel naso, nella retrofaringe, se risale qui diventa difficile da eliminare e dà la cosiddetta sordità trasmissiva. Ma di questo, eventualmente, potrà parlare molto meglio di me la dottoressa Mazzocca. Cioè, la presenza di muco nella casa del timpano fa sì che le vibrazioni trasmesse dalla membrana del timpano fino verso la finestra ovale per arrivare alla coclea vengono attutite e quindi l'udito resta un po' appannato, un po' limitato. Questo fenomeno è frequente dei bambini. Se avete in mente, quando si va in aereo, se va in quota, ci fanno deglutire per liberare, per riequilibrare la pressione esterna con la pressione interna, nei bambini questo è più difficile proprio per questo motivo. Va bene, andiamo avanti. E si parla in questo caso di visualizzazione trasmissiva. Canali semicircolari servono per l'equilibrio, ma qui non ci riguardano. I genitori possono aiutare il bambino a parlare? E come no? Quando il neonato piange, basta parlargli, a volte basta parlare dolcemente o sussurrargli una neglia perché si calmi o diminuisca comunque l'intestità del pianto. Questo è un fenomeno conosciuto e diffuso. Alla nascita, questo è molto interessante, il bambino riconosce la voce umana e sarebbe in grado di distinguere la lingua, notate bene, parlata dalla madre, in base alla prosodia, al suo modo di parlare, alle influenze. L'ascolto del neonato e del lattante sarebbe prevalentemente in tipo prosodico, vale a dire, presta attenzione alla intonazione, agli accenti, all'accentazione e alla durata relativa dei suoni. Quindi analizza queste cose. In base a questo il bambino distingue la lingua, riconosce la lingua parlata dalla madre, quella che ha sentito già prima di nascere. Questa è una ripetizione, i bambini molto piccoli sono particolarmente sensibili alla prosodia e va bene. Allora, prima di riconoscere le parole, i bambini devono poterle percepire in modo sufficientemente affidabile e in particolare i suoni elementari che compongono la parola. Ci sono osservazioni su un cosiddetto mammese. C'è quel modo di parlare, un po' scemotto se vogliamo, che si usa con i bambini piccoli. Adesso facciamo il bagnetto, adesso ti do la pappa. Allora, cosa si fa? Si dà un'enfasi particolare alla parola centrale della frase, che è preceduta e seguita da una pausa, per cui il bambino impara a focalizzare l'attenzione sulla parola centrale. Vabbè, i bambini piccoli sappiamo che quando sono affascinati dal linguaggio e vogliono mettere come se volessero afferrarlo e metterlo le mani nella bocca dell'interlocutore, ma questo va bene. Il bambino molto piccolo a un certo punto impara a interagire, risponde. Se noi ripetiamo i suoi vocalizzi, il bambino risponde e si stabilisce una sorta di dialogo, un dialogo affettivo, un dialogo non verbale, ma un dialogo importante. Perché gli attanti sollecitati al dialogo a questo livello, nella relazione, in seguito risulterebbero più attenti anche all'ascolto. Studiando, questo è un studio bellissimo, è un studio francese, studiando i tempi di attenzione del bambino di pochi mesi, si è visto che tende a spezzettare l'ascolto del linguaggio parlato in frammenti sempre più piccoli. Oh, da notare che i francesi hanno un linguaggio che è più strascicato, più collegato. Il nostro linguaggio che è più scandito sicuramente si presta maggiormente a questo tipo di analisi. Fino a identificare le forme più ricorrenti. Quali sono i suoni che ricorrono più frequentemente? E il bambino impara a riconoscerli. Sembra che faccia un'analisi statistica molto elaborata a livello statistico. Non me ne intendo di statistica, ma sembra che siamo stati tutti molto bravi prima di imparare a parlare. Tutto fa ritenere che l'unità del linguaggio umano sia costituita dalla sillaba. Allora, per noi italiani è istintivo. Forse io avrei qualche dubbio per gli inglesi, ma a quanto sembra anche gli inglesi usano una sillabazione forse meno scandita. Se voi intorno all'anno provate a recitare una semplice fila strocca, ma anche a parlare scandendo bene le sillabe, il bambino si mostra molto interessato perché sta facendo proprio quel lavoro di analisi dei suoni. Se glieli presento già separati, aiuto quel lavoro di identificazione che sta facendo. Prima di parlare, nel balbettio, il bambino tende a sperimentare tutte le risorse vocali di cui dispone, anche quelle che non userà più perché non rientrano nella lingua a cui è esposto. Tipicamente l'R nei cinesi che non avendono nel loro linguaggio corrente, non la usano, non la filano, anche se forse l'R è un po' più difficile da elaborare, da sperimentare. Non so, di questo ci... Questo eventualmente lo chiederebbe la dottoressa Mazzocca. E andiamo avanti. La varietà, la ricchezza, la modulazione del barbettio dipendono dalle strutture e dalle funzionalità degli organi fonatori. Ci vogliono strutture per parlare, non basta sapere che cosa dire. E l'ho appena detto che oltre a provare le risorse vocali di cui dispone, il bambino si ascolta e impara a modulare anche la sua voce, quindi ascolta le sue prove vocali. E' chiaro che se manca il feedback, se c'è un problema uditivo, i vocalidi sono meno incentivati e quindi questa modulazione, questo esame delle proprie risorse vocali può essere penalizzato. C'è una cosa che a me piace tanto ricordare, mica peraltro, è la gloria italiana. Ci sono dei circuiti neuronali speciali che si attivano quando io guardo qualcuno che fa qualche cosa, quando penso di imitarlo, quando provo a imitarlo. e si chiamano neuroni specchio e per cui ci inducono istintivamente a imitare i comportamenti che osserviamo. Nei bambini questi sono attivissimi. I bambini osservano, guardano e ripetono. Sono degli ottimi osservatori e imitatori, il che vuol dire che usano moltissimo i neuroni specchio. Tornando al linguaggio, in un primo tempo le parole evocherebbero un'attivazione corticale bilaterale, vi ho fatto vedere prima quello schema, forse adesso ricompare, non lo so, dove gli impulsi che vengono dall'orecchio destro vanno in parte all'emisfero cerebrale destro e in parte a quello sinistro e viceversa per l'emisfero sinistro. Però finché il linguaggio è limitato, finché si tratti di un'analisi vocale direi di base e riconoscere l'attivazione sembra che resti bilaterale. Però a un certo punto, eccolo qua, abbiamo questi circuiti, cioè gli impulsi, gli impulsi che a livello dell'orecchio sono stati trasformati in impulsi nervosi, vanno in parte a un'emisfero, in parte all'altro. Qui sembra che la trasmissione sia simmetrica. In realtà la trasmissione poi si sposta. In un primo tempo il vocabolario di comprensione, vale a dire il bambino analizza e ascolta, progredisce abbastanza linearmente, mentre la produzione, quello che il bambino dice, è molto più lenta. Vediamo qua, c'è una curva che ci dice la come la comprensione va avanti in modo praticamente lineare, mentre la produzione è molto più lenta. Però a un certo punto scatta. E quando è che scatta? Quando a una certa età, queste sono date molto orientative, intorno all'anno e mezzo, due anni, ci sarebbe, si definirebbe in modo stabile la specializzazione dell'emisfero sinistro, che è quello che è deputato all'analisi del linguaggio. Al momento in cui si definisce questo, sembra che ci sia una sorta di esplosione del linguaggio. Vale a dire, si attiva lo strumento, la zona che si occupa proprio di questo lavoro. E quindi comporta un'espansione del lessico. A mano a mano che il bambino impara a riconoscere singole parole, impara a riconoscere singole parole, comincia a guardare anche, a mostrare interesse per le persone e gli oggetti corrispondenti nel mondo circostante. Quando io dico la palla, guarda dove la palla. Quando io dico dove il papà, guarda dove il papà, dove la porta, dove la porta il bambino impara. Cioè fa tutto un lavoro di riconoscimento degli oggetti del mondo, del suo mondo, chiaramente. Quando invece passa dall'analisi fonetica a quella semantica, ai significati, l'attenzione si sposta dall'ascolto delle parole al riconoscimento degli oggetti corrispondenti, che è quello che abbiamo appena detto. Poi il riconoscimento si sposta dagli oggetti reali, concreti, alle loro rappresentazioni, quindi alle foto, alle immagini, ai disegni. Quando l'interesse si concentra sull'osservazione di immagini, libri e fotografie, possiamo anche presentarglieli, non solo con la parola, ma anche con una semplice descrizione di un comportamento. Il bambino, il bambino corre, il bambino che gioca con la palla e via di seguito. Cioè completare un pochettino la struttura della frase, suggerire anche qualche cosa che non è soltanto l'immagine, pura e semplice, ma anche l'interpretazione di quello che l'immagine ci dà. Da questa fase in poi è importante inserire le parole in frasi semplici, strutturate correttamente, non lunghi discorsi che non ci si perde dentro. Soggetto, verbo, complementi. Soggetto, verbo, complementi. Perché? Uno che ha difficoltà di linguaggio tende a stringere, a semplificare, quindi bisogna che comunichi le cose essenziali. Soggetto, verbo, complementi. Lo si fa anche a gesti. E questo permette all'interlocutore di capire meglio quello che uno vuole dire. Noi abbiamo a che fare spesso con bambini che hanno difficoltà di linguaggio, difficoltà di articolazione. Quindi è importante, è importante impostare loro un linguaggio e sulle basi assolutamente corretto corretto e comunicativo, ma nel senso più essenziale che è la struttura della frase inglese, per esempio. Soggetto, verbo, complemento. Soggetto, verbo, complemento. Tante piccole frasi e non un discorso elaborato e complesso. Altrettanto importante è l'utilizzo di un linguaggio ricco di sinonimi. Se io uso più parole per indicare la stessa cosa, il bambino impara che ci sono più termini per usare, per dire la stessa cosa. E più parole il bambino ascolta, maggiori saranno le possibilità di modulare e variare il loro uso. Cioè uno impara che può dire una cosa in tanti modi e poi sceglierà magari quello che gli è più semplice. E quello che è più semplice per i bambini bilingue è l'inglese, chiusa la parentesi. Ben presto però i bambini devono scoprire anche le ricorrenze, le regolarità, vale a dire le regole grammaticali e sintattiche e cominciano ad applicarle. Allora qui cosa succede? Che i bambini che hanno lo sviluppo del linguaggio normale senza problemi a questo punto cominciano a creare dei neologismi tipo siamo partenzati perché siccome c'era la partenza era la talora siamo partenzati oppure il guidante per indicare il volante perché è quello che serve per guidare. A volte proprio questa fase qui siamo intorno ai quattro anni spesso però è molto elastica ci può essere anche una balbuzia transitoria vale a dire una balbuzia legata al fatto che il bambino sta cercando il termine corretto e c'è un conflitto tra l'uso corrente e quello che è invece quello che lui userebbe però sono cose che passano su cui non è il caso di preoccuparsi. E quando parliamo a mano a mano beh vabbè è l'illustrazione che pensiamo quello che vogliamo dire automaticamente mettiamo insieme una serie di funzioni. Oh per parlare più o meno dobbiamo attivare in modo coordinato circa 600 muscoli perché c'è l'apparato respiratorio se non ho fiato e non respiro non parlo l'apparato fonatorio vale a dire tutta la zona delle corde vocali tanto per intenderci e poi tutto quello articolatorio la lingua la lingua la lingua lunga tanto per dirlo in termini concreti di queste cose eventualmente ci parlerà la dottoressa Mazzocca che è specialista perché lei è medico di cuiatra e foniatra quindi tutto sommato a tutte le competenze io qui le ho rubato un pezzettino ma poi se avrete domande o qualcosa di genere lo chiederete a lei allora faccio una rapida parentesi sulla respirazione l'aria che respiriamo e questo per me è importante perché di questi tempi in cui abbiamo problemi di mascherine vi sento qualcuno dice si soffoca no allora l'aria che respiriamo mediamente è composta prevalentemente da N2 che è l'azoto l'azoto dal punto di vista respiratorio è un gas inerte 21% l'ossigeno che è quello che il nostro organismo trattiene a livello degli scambi che avvengono a livello polmonare e poi a livello di tutti i tessuti perché tutti i tessuti consumano ossigeno tutte le reazioni biochimiche consumano ossigeno e poi torno indietro scusate è 0,5% di CO2 che è la famosa anidride carbonica CO2 che costituisce un elemento vabbè poi ne ripariamo un istante poi ci sono gas rari e inquinanti che sono una minima parte allora quello che ci interessa dal punto di vista respiratorio è l'azoto l'abbiamo detto e è eccipiente e sotto un certo profilo anche gli altri gas rari sono un eccipiente consideriamo nella funzione respiratoria ci interessa l'ossigeno l'ho già detto e l'anidride carbonica a livello degli alveri polmonari i globuli rossi del sangue rilasciano l'anidride carbonica prodotta dall'organismo vale a dire i globuli rossi a ogni a livello scolare a livello epatico a livello cardiaco a livello di qualsiasi organo di qualsiasi organo a livello capillare i globuli rossi mollano l'ossigeno che hanno preso nei polmoni e prendono l'anidride carbonica poi vanno a scaricare negli alvelli polmonari allora questo è e viceversa è l'ossigeno quindi c'è uno scambio a livello del polmone i capillari assumono l'ossigeno e lasciano l'anidride carbonica a livello periferico a livello di pelle di organi eccetera cedono l'ossigeno e captano l'anidride carbonica e vabbè andiamo avanti eh già detto già ecco quando il tasso di anidride carbonica nel sangue varia si attivano a livello cerebrale sottocorticale i centri deputati alla regolazione del respiro quando il livello di anidride carbonica si innalza scatta il meccanismo che induce l'atto di ispirazione viene il fiatone questo capita anche quando uno fa la corsa perché quando fa la corsa a livello muscolare produce più anidride carbonica quindi arriva più anidride carbonica ai centri respiratori che si attivano e danno il fiatone il bisogno di respirare più profondamente chiaramente il fiatone permette di introdurre una nuova area e quindi ossigeno nell'organismo e quindi un ricambio a livello dei tessuti eh e contemporaneamente i capillari si dilatano rallentano il flusso sanguigno quindi permettono ai tessuti di assimilare di assorbire l'ossigeno di cui hanno bisogno questo meccanismo è più marcato a livello cerebrale che in tutto il resto dell'organismo vabbè questo l'ho già detto mi interessava questo perché al di là dei vantaggi di una buona respirazione è importante è importante comunque avere beh è importante avere una buona respirazione è chiaro vabbè avere una buona respirazione comporta avere anche fiato quindi potenza di voce io che ho poco fiato devo continuamente trattenermi devo parlare velocemente se no non ci sto dentro ma va bene chi ha molto fiato può parlare lentamente può avere una potenza di voce migliore meglio per lui l'aria che passa dai polmoni passa in laringe ma questo è un problema di fonologia le caratteristiche della voce dipendono dalle conformazioni laringe dalle casse di risonanza e io credo che a questo punto possiamo parlare passare la parola alla tutoressa Mazzocca che ha qualcosa da dire sì devo aprire questo vediamo brava ce l'ho fatta devo andare però in presentazione qua spesso provo sì quello sì sì ormai ci sei dai ok perfetto no mi sto attivando anche nell'informatica allora io riprenderò alcuni concetti che ha già detto l'autoressa Medorago ma ripetere forse delle volte non fa male allora prima di tutto siccome oggi dobbiamo parlare di linguaggio di comunicazione verbale però bisogna considerare che la comunicazione verbale è all'interno di un processo comunicativo e quindi dobbiamo tener conto che questo processo comunicativo è costituito da una serie di di sottocapitoli per cui per poter avere un buon processo comunicativo dobbiamo avere una buona spinta volitiva che garantisce che garantisce la quantità della comunicazione dei mezzi cognitivi che garantisce il grado di sofisticazione e gli strumenti periferici già la dottoressa Medorago ha accennato all'importante questione dell'ingresso uditivo sulla base della delle difficoltà su questi vari livelli l'organizzazione ma della sanità ha strutturato una classificazione in cui bisogna tener conto quindi della compromissione organica ad esempio su una persona sorda o una malattia rara e che questo comporta sulle perdita di capacità personali e i conseguenti svantaggi esistenziali e di handicap è molto importante questo perché per ogni bambino se dobbiamo poi costruire un progetto di abilitazione abitazione dobbiamo tenere presente di tutti questi aspetti quindi non è che dobbiamo solo occuparci del discorso del bambino che parla poco male o non impara a parlare la dottoressa Medolago ha accennato al problema dell'udito è importantissimo tener conto che essendo l'udito integro il sistema perché noi possiamo percepire suoni rumori voce parole linguaggio degli altri che alla nascita il bambino debba avere questa funzione integra molte sono le cause di ipocusio assorbità nell'età infantile e dobbiamo valutare se è possibile già nel primo anno di vita andare a valutare se c'è una funzione uditiva integra o no quindi in base alla sede della del danno della gravità dell'esordio noi possiamo definire fin dall'inizio quale difficoltà il bambino potrebbe avere sulla percezione uditiva se noi guardiamo andiamo a vedere qual è la cirurgia della sordità andiamo a vedere che nel 60% dei casi si tratta di sordità genetica inserito in forme sindromiche o in forme non sindromiche il restante 40% è a cause di tipo acquisito ma che possono essere comunque già in presenti sia in fase prenatale perinatale e anche postnatale nella se andiamo a vedere in specifico le sordità genetiche sindromiche è stato visto che in circa 400 tipi di sindromi è possibile che sia presente ipoacusia o sordità questo è un riassunto delle sindromi in cui è possibile andare a trovare una situazione di sordità non è presente in tutti i casi però questo a maggior ragione in queste situazioni noi dobbiamo andare a controllare in maniera molto specifica che il sistema uditivo sia integro è possibile comunque non aspettare di porsi il dubbio di sordità quando aspettando che il bambino cresca quindi nella fascia età 0-3 anni è possibile mediante varie tecniche soggettive obiettive poter andare a valutare se il nostro bambino ha un udito normale o deficitario e di quanto è deficitario tra le indagini strumentali obiettive quella che ormai è più usata alla nascita e che di solito è effettuata in tutti i punti neonatali è l'esame delle otto emissioni acustiche è un test di screening che si esegue nel neonato nella prima seconda giornata e che ci può porre non ci può magari dare un'entità sulla predittiva ma ci può cominciare a porre il dubbio da questo poi è possibile proseguire con gli altri accertamenti quindi in genere quando un bambino viene dimesso da neotologia sulla cartellina di dimissione viene riportato se il test delle otto emissioni è nella norma o invece è l'udito da ricontrollare questo è un piccolo schema che praticamente ricalca l'audiogramma nella vengono riportate le intensità e le frequenze è importante che noi sentiamo mediamente in un vito normale la nostra capacità uditiva rispetto alle intensità è sui 20 decibe nella qui quando io parlo a un'intensità normale di conversazione mi posiziono sui 50 60 decibe quindi se la mia capacità uditiva è posizionata sotto questa capacità allora il bambino non può percepire quelli che sono gli elementi della della voce umana con i disegnini in effetti qui ci viene dimostrato quei disegnini quanto il bambino perde di comprensione quando man mano che la capacità uditiva diventa sempre più severa nella prima l'autoressa Medolago aveva accennato al problema delle forme catarrali dell'orecchio medio nella fascia 0-6 anni il problema delle forme catarrali o dei raffreddori miti ricorrenti che è il problema dell'ipertrofia donidea è molto frequente e quindi non bisogna dimenticarsene neanche nei bambini che presentano altri tipi di patologie perché delle volte si è talmente concentrati sul andare a porre la nostra attenzione sulla malattia rara sul ritardo cognitivo ma vengono un po' accantonate queste questioni per cui anche un bambino con una malattia rara deve essere valutato rispetto anche a questo problema delle prime vie respiratorie quindi forme catarrali che possono quindi ridurre la capacità uditiva devono essere subito definite diagnosticate e curate quando io ho un'otite catarrale o quando ho un problema di nasofaringia o di istruzione nasofaringea è come se io ascoltassi con le mie orecchie come se avessi due tappi di ovatta nelle orecchie quindi sento tutto ovattato e distorto quindi le informazioni del linguaggio mi arrivano quindi ovattate e distorte in più se ognuno di noi provasse a tenere due tappi nell'orecchia solo per mezza giornata vediamo che anche le attività di attenzione e concentrazione calano tantissimo quindi a questo punto un bambino piccolo che non ci può dire sento l'orecchio vattato o sento male quindi dobbiamo anche stare molto attenti a questa questione che non è per niente banale scusa un istante puoi fare un accendere all'uso improprio dei cotton fioc l'uso improprio dei cotton fioc sì allora meno si toccano le orecchie meglio è perché molte volte con il cotton fioc rischiamo di spingere il cerume nel condotto uditivo e anche in vicinanza del timpano nella mia attività clinica di territorio devo dire che di tappi di cerume ho tolti ben tanti ai piccolini anche sotto i 5 e 6 anni quindi per l'igiene dell'orecchio si pulisce esternamente si pulisce quello che esce nella conca però attenzione all'uso dei cotton fioc meno si usano meglio è secondo me un conto invece è la presenza di catarro che viene a formarsi al di là del timpano non nel condotto uditivo e allora lì il problema è curare naso faringe e può capitare che anche un bambino con una malattia rara come la sindrome criduscia debba magari sottoporsi all'intervento di adenodectomia per ripristinare la respirazione nasale e quindi far drenare la tuba di ostacchio quindi non dobbiamo dimenticarci di queste patologie che sono presenti in tutti i bambini indipendentemente dalla malattia di base che uno possa avere è importante quindi rispetto all'udito fare una diagnosi precoce perché questo ci permette di immergere il bambino in un mondo sonoro utilizzando le protesi acustiche perché sarà perdito di filo oltre una certa entità dobbiamo provvedere anche a una protesizzazione questo sfrutta quindi il bambino viene quindi anche attraverso la protesi acustica se è una situazione grave con l'impianto cocleare viene immerso in un mondo sonoro e quindi sfruttiamo la sua plasticità cerebrale già nei primi mesi di vita e possiamo dare la possibilità che il bambino possa quindi creare un codice informativo e attivare quel feedback al verbo acustico di cui prima ha accennato l'autoressa Medolago per attivare gli organi fondarticolatori e quindi avviarlo verso l'apprendimento della comunicazione verbale quindi chiudiamo un attimo il capitolo udito che comunque è diciamo essenziale importante nel processo di sviluppo del linguaggio come già probabilmente ripeto delle cose che ha già letto cercherò di saltare quando mi rendo conto che vai tranquilla vai tranquilla ripetita aiutano ecco allora quindi il linguaggio verbale sappiamo che è un fenomeno che è specificatamente umano si sviluppa rapidamente in tre anni di vita e ai tre anni il bambino con variabilità interdividuali possiede già quindi come già detto prima le strutture fondamentali della lingua materna avviene in modo spontaneo seppur con differenze interdividuali anche nella normalità e seguendo le stesse età in culture e lingue completamente diverse ed in parte viene comunque influenzato dall'ambiente che ci circonda dalla famiglia le basi neurologiche e la serie di potenzialità e di modi di analisi degli elementi linguistici hanno bisogno comunque degli stimoli ambientali per avviare il bambino a capire gli altri quando parlano e a parlare anche questo è stato detto prima che se andiamo a osservare che cosa succede nel primo sviluppo gli stadi di ascolto e di ascolto del linguaggio e di produzione hanno un parallelismo inizialmente sono abbastanza in parallelo poi l'ascolto e poi la comprensione viaggia molto più veloce rispetto alla produzione come già si era visto dal grafico che Odessa Medolago aveva fatto vedere quindi man mano che il bambino cresce migliora quello che è l'ascolto di quello che sente rispetto a quello che lui emette fino ad arrivare alla lallazione esistono questo sempre per completare la questione udito esistono delle abilità di ascolto e c'è una gerarchia molto importante che in genere il personale riabilitativo in specifico logopediste vanno a valutare perché essendoci una gerarchia vuol dire che un bambino non può passare a un livello successivo se prima non ha appreso il precedente quindi se un bambino ad esempio non ha ancora raggiunto l'abilità di detezione cioè di rispondere alla presenza o all'assenza del suono e quindi il bambino impara a rispondere al suono a prestare attenzione e non rispondere quando il suono non è presente se il bambino non ha questa prima abilità di base non riesce poi a costruire le successive tappe sull'abilità dell'ascolto quindi questo vuol dire che sia il terapista sia che i genitori devono stare attenti a osservare questo tipo di abilità di base che il bambino man mano acquisisce per cui se io non ho ancora raggiunto una certa abilità di ascolto è inutile che voglia ad esempio insistere col bambino perché riesca a fare delle abilità di cui ancora non ha le basi quindi dobbiamo man mano anche sull'ascolto costruire le basi successivamente a detezione c'è la discriminazione cioè l'abilità di percepire somiglianze e differenze fra doppio stimoli del parlato il bambino quindi impara a notare le differenze tra i suoni e a rispondere in modo diverso a suoni differenti quindi è molto importante che di porre attenzione osservare man mano dove il bambino man mano diventa sempre più abile sulla base di quello poi si può costruire un processo di tipo abilitativo o educativo dopodiché compare il discorso successivo dell'identificazione cioè l'abilità di essere in grado di discriminare i tratti soprasegmentali tipo i tratti prosodici del linguaggio come già accennato prima dottoressa Medolago la capacità di riconoscere le voci maschile e femminili e poi anche imparare a ascoltare i tratti segmentali cioè i singoli suoni capire che una vocale è diversa dall'altra riconoscere che è diversa che ci sono consonanti diverse e che all'interno della parola cambiano queste vocali e queste consonanti a costruire prima le sillabe e poi la parola segue poi quindi la comprensione cioè la capacità l'abilità di capire il significato della produzione rispondendo alle domande eseguendo un ordine e quindi questo permette di passare poi a mettere in atto il collegare le vite auditive a quelle cognitive quindi qui arriviamo nel bambino già più grande quindi all'ingresso della scuola elementare se noi andiamo a guardare quello che è lo sviluppo della comprensione sempre riprito il bambino che ci sente bene naturalmente esistono queste tappe che sono abbastanza simili nei bambini e per cui a varie fasce di età noi andiamo a guardare dove il bambino sta diventando abile quindi se a tre mesi tre zero tre mesi reagisce suoni intensi tra i tre sei mesi comincia a localizzare la fonte sonora girando il capo comprende alcune intonazioni della voce a sei nove mesi riconosce risponde al proprio nome riconosce parole familiari comprende le produzioni si diverte con i giochi sonori a nove tredici mesi comincia a reagire a stimoli sonori familiari mostre interesse agli oggetti quando vengono nominati inizia a comprendere ordini semplici ora questo è una media dalla ricerca da quello che si è visto su ampie fasce di bambini però anche qui bisogna tenere presente proprio perché il nostro scopo è quello di aiutare il bambino a maturare a svilupparsi nella comprensione e poi nella produzione che se io ho un bambino di un anno ma che a livello di sviluppo di comprensione a tre sei mesi è da lì che dobbiamo partire per andare a costruire il resto non possiamo assolutamente saltare queste tappe di sviluppo questo vale anche per la produzione sempre procedendo sullo sviluppo della comprensione mano a mano il bambino tra i 13 e i 18 mesi comincia capisce il no qualche parole brevi frasi è in grado di consegnare un giocattolo su richiesta si muove rettemicamente al suono ama ascoltare brevi storie filastroche come già detto dottoressa Medolago e mano a mano arriva fino all'età dai 30 a 6 mesi che nel quale il bambino comprende la maggior parte di quello che gli viene detto comincia a comprendere i primi concetti topologici comincia a identificare gli oggetti dall'uso e attribuisce significato al numero a livello invece di produzione vi è una prima fase che è cosiddetta del periodo prelinguistico 3 0 e 9 mesi quindi partiamo dal pianto da suoni gutturali e quindi il bambino comincia ad attivarsi nell'uso degli organi fonoarticolatori secondo terzo mese cominciano a emergere delle vocalizzazioni che rappresentano il primo sviluppo del feedback a verbo acustico e tra i 6 e 9 mesi inizia la lallazione che è proprio l'inizio della comunicazione intenzionale la lallazione è presente anche nel bambino sordo per cui attenzione che il bambino che ha lallazione non è un segnale al 100% significativo che il bambino ci senta il periodo linguistico inizia dai 9 mesi a 9 mesi il bambino comincia con le prime parole con i primi fonemi consonantici è una comunicazione di tipo intenzionale dai 13 ai 18 mesi c'è l'aumento di vocabolario la comparsa della cosiddetta frase monotermine c'è una parola che rappresenta una frase compaiono altri gruppi consonantici tra i 18 e i 24 mesi c'è un ulteriore aumento del vocabolario la comparsa della frase bitermine quindi anche senza la presenza di una forma verbale compaiono altri fonemi consonantici e quindi comincia a essere una comunicazione verbale con una funzione simbolica dal 24 al 23 mese c'è compare la frase politermine soggetto verboggetto e altri fonemi consonantici quindi qui siamo nella fase proprio della comunicazione verbale con funzione relazionale dal trentesimo mese prende avvio anche quella che è la strutturazione morfosintattica e in man mano il completamento dei fonemi consonantici che ancora non erano stati appresi anche per quello che riguarda l'apprendimento dei singoli fonemi anche qui c'è una sequenza di maturazione per cui se un bambino non è ancora in grado di caricare ad esempio una P e una B è inutile che vogliamo a un certo punto fargli pronunciare la S dobbiamo perché ha una maggiore difficoltà da un punto di vista dell'organizzazione a livello articolatorio quindi anche qui l'esperto chi si occupa di linguaggio il logopedista fa un bilancio della situazione fonemica per aiutare il bambino a poi costruire quello che manca quindi questo vale anche a livello dei genitori quindi se un bambino dice ma un fonema una letterina non intapponiamoci voglielo fare dire meglio perché ancora magari non è il momento opportuno per farlo altro elemento molto importante nello sviluppo della comunicazione del linguaggio è la cosiddetta comunicazione gestuale quando noi verso i 9 e i 13 mesi il bambino non ha una competenza verbale però lui riesce a farci capire comunque tante cose di quello che ci vuol dire attraverso ad esempio i gesti cosiddetti ideitici che vengono utilizzati come un'intenzione comunicativa che sono convenzionali e si riferiscono a qualche oggetto o evento esterno tipico è l'indicare questo questo vuol dire molto importante osservare se il bambino utilizza questi gesti anche se ancora che magari un bambino che può avere 20 mesi perché è in ritardo di linguaggio ma è molto importante perché è un segno di comunicazione e quindi dobbiamo sostenerlo e essere pronti a capire quello che il bambino ci vuole comunicare attraverso questi gesti l'indicare cioè puntare l'indice verso un oggetto e guardare in maniera alternativa l'adulto è un indice fondamentale di sviluppo comunicativo e linguistico successivo quello che il bambino ci indica cos'è è l'oggetto della comunicazione ad esempio indica il piatto della pappa perché vuoi mangiare ha intenzione di richiedere alla mamma e al papà la pappa quindi indica quindi è importante sostenere attraverso una comunicazione da parte nostra anche verbale ah ecco vuoi la pappa nel senso che quindi di verbalizzare quello che il bambino attraverso l'indicazione ci evidenzia quindi diciamo questa comunicazione gestuale non va mai sottovalutata e va stimolata dal dodicesimo mese compaiono anche i cosiddetti gesti referenziali o simbolici quindi il referente della comunicazione mentre con l'indicare io indico un oggetto in questo caso il gesto stesso è equi e potenziale della parola ad esempio ciao mangiare non c'è più telefonare e quindi questo è un successivo avanzamento rispetto all'avvio della comunicazione poi verbale questi gesti referenziali possono essere usati assieme ai precedenti dentici e quindi è come se noi cominciassimo a costruire una piccola frase quando il bambino ha gravi difficoltà per la patologia di cui affetto a iniziare la comunicazione verbale questa comunicazione gestuale va comunque sostenuta perché può essere che su questa se poi si tratta di una situazione molto grave per cui il bambino non avrà mai l'avvio alla comunicazione verbale perché purtroppo dobbiamo tener conto che ci possono essere anche queste situazioni estreme ma ci sono questo permette quindi di costruire un piccolo nucleo su cui pensare poi di utilizzare altre tipologie di comunicazione a verbale per quello che riguarda il numero delle parole anche qui inizialmente l'evoluzione delle parole è molto lenta e poi esplode dopo i 30 mesi fino a che a 36 mesi mediamente i bambini sono in grado di utilizzare circa mille parole la combinatoria di due parole quindi il metto insieme due parole a costruire la frase di termine comincia a comparire quando il bambino ha in uso un vocabolario di circa 70 100 parole altra cosa molto importante proprio perché prima aveva accennato il San Medo Lago che la comprensione viaggia molto più velocemente all'inizio che mentre noi a 18 mesi usiamo massimo un vocabolario di 20 parole il bambino ne capisce anche fino a 300 quindi questo vuol dire che comunque noi dobbiamo sempre avere una anche nel bambino che ha un ritardo del linguaggio o che ancora nella fase in cui non comunica verbalmente dobbiamo sempre comunque inizialmente quindi la famiglia comunque parlare al bambino comunque in maniera tranquilla con anche frasi incomplete e anche non limitando e c'è l'uso di quei 3-4 parole che noi presumiamo che il bambino sappia dire quindi se il bambino usa 20 parole non è che noi nella nostra comunicazione utilizziamo solo quelle che il bambino sa dire dobbiamo espandere la sua conoscenza rispetto a altre parole allora valutazione della comunicazione verbale cioè quando noi quando noi parliamo abbiamo dobbiamo andare a vedere se abbiamo gli strumenti per parlare e se li sappiamo usare e dove li sappiamo usare meno bene come poterlo aiutare quindi quando si fa la valutazione di un bambino non ci si limita solo a vedere di quanti ho ritardo linguale ma dobbiamo anche andare a valutare tutti i vari aspetti che sono e gli organi che sono sottesi alla comunicazione cosa vuol dire quindi andare a valutare l'anatomo fisiopatologia degli organi pneumofono articolatori perché per parlare non si usano solo le corde vocali come spesso vi si pensa ma è tutto un sistema pneumo quindi polmoni respirazione fono quindi la varinge articolatori tutto quello che riguarda quindi labbra lingua faringe e quindi tutti gli organi di risoluzione quindi quando noi dobbiamo capire come poi muoveci di fronte a un bambino che ha difficoltà di comunicazione verbale quindi dobbiamo andare a vedere questi vari aspetti quindi l'anatomo fisiopatologia degli organi pneumofono articolatori le prassie bucolinguali le sequenze prassiche cioè tutta la capacità di usare quei tanti muscoli che noi mettiamo in atto per poter articolare anche una singola sillaba gli stessi muscoli che gli organi che usiamo per articolare la parola sono anche gli stessi organi che noi utilizziamo per la masticazione e la deglutizione noi sappiamo che ci sono in tante malattie rare o anche per alterazioni craniofacciali questa difficoltà e quindi il fare un'abilitazione alla masticazione e alla deglutizione è molto importante perché gli stessi organi poi noi utilizziamo anche per parlare esame quindi un bambino che ha difficoltà di masticazione e deglutizione deve essere valutato rispetto anche a quello che può essere il ripercuotesi sull'aspetto dell'articolazione della parola va fatto un esame fonematico cioè per capire il bambino quali fonemi sa dire quali non sa dire come gli articola e quindi potersi fare un progetto di come poterlo poi aiutare in un ambito riabilitativo poi ci sono anche molto importanti gli aspetti melodico-prosodici del linguaggio perché noi non parliamo in maniera piatta ma attraverso l'aspetto melodico-prosodico noi diamo delle importanti informazioni quindi ad esempio io la stessa frase la posso dire in maniera esclamativa in maniera interrogativa in maniera e quindi anche bisogna vedere quanto il bambino sia in grado di avere queste competenze ci sono tanti bambini che non hanno ancora l'uso della parola che noi possiamo capire ma emettono la voce avendo un'intonazione melodico-prosodica per cui noi capiamo che il bambino ci sta facendo una domanda anche se non capiamo la parola specifica che sta dicendo quindi questo diciamo è un aspetto molto importante rispetto poi alla costruzione del linguaggio poi naturalmente si va a valutare qual è il suo livello di competenza frastica e lessicale apparato respiratorio tante cose le ha detto l'autoressa Medolago l'apparato respiratorio che è costituito dalle vie respiratorie quindi a partire dal naso fino ad arrivare ai polmoni e alla gabbia taracica e a tutta la muscolatura adesso connessa è costituito dalla fase di ispirazione ed espirazione per la fonazione ci deve essere un adattamento della respirazione alla fonazione per cui c'è un ritmo respiratorio modificato per cui se quando io parlo c'è di solito un accorciamento della fase ispiratoria e un allungamento della fase espiratoria che permette quindi di poter con un atto espiratorio riuscire a tenere la frase la abilità di coordinare la respirazione alla fonazione non è del tutto semplice anche perché il il mantice respiratorio la gabbia taracica non è lì per i fatti suoi quindi dopo mi pare di avere una diapositiva più specifica la respirazione e la coordinazione respiratoria è connessa anche a un corretto o non corretto assetto posturale quella che è più economica e fisiologica per poter sostenere la voce è la respirazione e il costo diaframmatica cioè l'utilizzo di quel muscolo che si trova tra il torace e l'addome e che ci aiuta nella sua contrazione nel buttare fuori l'aria che noi abbiamo prima ispirato quindi se utilizzo una respirazione di questo tipo riesco ad avere un ottimale volume di aria che mi permette quindi di avere un'adeguata durata della frase che io voglio dire e quindi non spezzettare la mia conversazione molte volte quella respirazione e il costo del frammatica è proprio inibita dalle posture non corrette che non teniamo quindi è molto importante che in un bambino con difficoltà comunicative in parallelo dobbiamo anche lavorare sull'aspetto motorio neuromotorio ossicomotorio perché tutte le funzioni sono tra esse coordinate e stimolate o inibite addirittura una volta che l'aria passa viene spinta dai polmoni verso l'alto la corrente di aria ispiratoria aumentando la pressione aumentandosi la pressione sotto le corde vocali innesca il movimento di apertura e chiusura delle corde vocali e di liberazione di micro liberazione ondulatoria della mucosa che riveste le corde vocali quindi queste variazioni di pressione mettono in alto il gioco di apertura e chiusura delle corde vocali in termini un po' semplificate ed è questo il momento in cui l'aria che arriva dai polmoni diventa sonora quindi a questo punto l'aria ispiratoria diventa voce la coordinazione quindi tra espirazione e partenza della sonodizzazione in laringe deve essere e la sua qualità è condizionata da vari fattori e ritorno ancora al discorso della postura perché la laringe non sta nel collo per i fatti suoi e si trova a livello del rachide cervicale è appesa allo soioide ed è connessa ai muscoli del collo alla mastoide e alla mandibola e quindi anche allo stato di tensione e contrazione di tutta la muscolatura del distretto cefalico e scapo lumerale e quindi è decisamente connessa a quella che è la posizione nello spazio dell'intero corpo quindi se io parlo tenendo tutta la testa inclinata in avanti o sto in una situazione di tensione delle spalle e una postura non corretta della colonna vertebrale io posso ridurre e mettere in disfunzione già questo primo passaggio sulla sonorizzazione della voce quindi la voce facendo un riassunto quindi è in rapporto col mantici e polmonare che quindi con la laringe e quindi anche con le cavità di risonanza articolazione perché una volta che l'aria è sonorizzata in laringe passa verso la parte superiore della laringe che è costruita dalla faringe dalle cavità buccali dal naso dalle cavità paranasali il tutto dopo vediamo rispetto alla risonanza e all'articolazione il tutto poi gestito dal sistema nervoso centrale sia a livello vulvare che mesencefalico e corticale che è sostenuto anche dal sistema uditivo che ci sostiene rispetto alla feedback verbo acustico nonché poi tutta alla situazione di educazione familiare e culturale questo l'avevo già detto prima magari posso anche saltarlo però quindi la correlazione anatomo funzionale tra setto posturale e atto fonatorio è da seriamente valutare proprio per tutte queste connessioni che vi ho detto prima e teniamo conto che le sinergie di attivazione muscoloscheletriche sono organizzate da un continuo attività di controllo e rilievo da parte di informazioni proprio oggettive e esterooggettive che ci arrivano dei vari settori recettoriali e un'altra cosa molto interessante è che il funzionamento integrato del sistema sensitivo motorio a livello della formazione reticolare che regola il tono muscolare l'aringestra e l'aringeo ha anche delle connessioni col sistema limbico la formazione reticolare per cui è responsabile anche dell'aspetto affettivo emotivo pensate quando noi siamo in una situazione di panico di emozione ci manca la voce non riusciamo più a coordinare un ben niente quindi pensate un bambino che già ha in difficoltà comunicative verbali vorrebbe comunicarci qualcosa non ha tutti gli strumenti per farlo subentra un fatto tensivo emotivo che gli modifica l'assetto posturale quindi come più volte negli incontri di ABC sostiene la professione Petrinazzi l'aspetto di mantenere nel tempo di controllare l'attività neuromotoria psicomotoria e di coordinazione motoria e anche nella crescita non solamente quando è bambino piccolo ma anche nell'adulto aiuta tantissimo questo problema di correlazione di assetto tra postura e fonazione questo è semplicemente un tracciato spettografico che avevo già presentato in occasione di incontri ABC per far vedere che semplicemente modificando la postura del collo da normale a flesso a esteso a dietro si modifica la righina rossa rappresenta la frequenza fondamentale della voce che si sposta tantissimo semplicemente perché ho cambiato la postura del collo rispetto al momento in cui emetto una vocale ho fatto prima accenno l'apparato di risonanza perché quando l'aria arriva sonorizzata dalla laringe poi l'apparato di risonanza che funziona da risonatore può rinforzare modificare smorzare e e quindi rendere più o meno comprensibile quello che sto cercando di produrre le cavità di risonanza possono essere modificate dall'azione muscolare e vediamo ad esempio come si modifica la risonanza semplicemente quando abbiamo il raffreddore e quindi questo vuol dire che dobbiamo avere anche un'attenzione a quello che riguarda la salute di questo primo tratto delle vie respiratorie poi l'apparato di articolazione che è costruito labbra arcate aglio dentarie guance lingua palato l'articolazione quindi è messa in funzione proprio da tutte le parti mobile del tratto vocale che permette quindi la produzione dei fonemi della parola gli organi dell'articolazione come detto prima sono gli stessi che ci servono per la masticazione e la dilutizione vengono adattati alla parola è importante un'osservazione di questa parte del nostro corpo abilitata all'articolazione perché in diverse patologie nelle in molte malattie rare vi è una dismorfia facciale e che quindi certamente porta qualche difficoltà a mettere in atto una corretta articolazione molte volte i bambini non sono neanche non riescono proprio magari banalmente perché hanno le adenoidi o perché hanno ricorrenti riniti di organizzare bene la respirazione e l'emissione della voce per cui tendono poi a rimanere spesso con la bocca aperta usare poco il naso la lingua si protrude all'esterno e quindi questo peggiora quella che è l'articolazione anche di una singola sillaba quindi bisogna in questo caso capire come aiutare il bambino a dove è possibile quindi anche attraverso le volte interventi di tipo odontoiatrico magari c'è anche un morso aperto delle anomalie che possono rendere difficile l'articolazione alcuni fonemi e quindi il quindi poter permettere al bambino di rendere sempre più comprensibile quello che lui articola in effetti i fonemi della della lingua italiana le consonanti in particolar modo hanno dei modi di articolazione molto diversi vengono catalogati in base a dove vengono articolati quindi questo non è compito dei genitori ma del personale competente che potrà dare poi alla famiglia ed educatori i consigli per favorire l'articolazione di questi fonemi a seconda del loro punto e modo di articolazione come già detto prima questa è una tabella di riassunto i fonemi hanno una compaiono secondo una sequenza di maturazione per cui dobbiamo andare a vedere se tra l'età del bambino e i fonemi che sa dire esiste una correlazione se un bambino mostra un ritardo esistono alcune caratteristiche cosiddette normali del bambino nel suo linguaggio a tre anni poi posso avere a tre anni intendendo come età media del bambino normale allora questo vale anche bambini che hanno difficoltà per cui quando iniziano a parlare può capitare che ci siano delle caratteristiche che noi considerato rispetto a un linguaggio adulto consideriamo degli errori ma che invece possono essere tra virgolette normali nel bambino prima aveva accennato Adressa Medolago alle turbe del flusso verbale c'è un momento in cui il bambino è apparentemente balbuziente anche in questo caso non bisogna accentuare al bambino questa difficoltà perché poi in genere scompare spontaneamente come anche avere la tendenza al momento in cui si comincia a strutturare il linguaggio usare delle forme tendenza a rientrare le forme irregolari dei verbi in regole generali per cui ad esempio dico aprito per aperto oppure se tendo a saltare delle sillabe che sono poco non accentate e quindi poco percepibili acusticamente a invertire o a sostituire dei fonemi per esempio posso dire cimena invece di cinema oppure posso saltare dei dittonghi posso sostituire un suono con un altro posso in una parola a più sillabe plurisillabica praticamente semplificare la parola per cui invece di dire cioccolata dico totolata e quindi questi sono errori che non vanno corretti direttamente ma fanno parte dell'allenamento che il bambino fa nell'apprendimento del linguaggio cosa che prima abbiamo accennato dottoressa Medolago e anche quando noi arriviamo anche un'altra cosa molto interessante che quando il bambino comincia a utilizzare la frase di termine quindi mette assieme due parole è importante osservare se le diversifica e anche noi come adulti che diamo nella risposta ampliamo il linguaggio del bambino dobbiamo anche stare molto attenti a diversificare anche noi quindi non utilizzare mai la stessa tipologia di frasi qui c'è un esempio di varie possibilità quindi un conto è fare una frase di termine che è semplicemente un'identificazione ad esempio guarda cagnolino oppure una funzione di attribuzione autogrande ad esempio oppure una azione rispetto allo strumento taglia coltello quindi dobbiamo anche nel rispondere al bambino o colloquiare con lui pur usando delle fasi semplici anche di essere molto variabili in quello che stiamo dicendo e non appoggiarsi magari sul fatto che il bambino inizialmente usa solamente una tipologia di queste frasi di termine quindi bisogna espanderci ecco solo dire due cose rispetto alla sindrome del cridouche in rapporto a quello che ho detto fino adesso negli anni scorsi abbiamo fatto una ricerca partendo dal fatto che proprio la sindrome del cridouche ha preso questo nome dal tipo particolare di voce del pianto che il bambino ha alla nascita e vista la difficoltà che molti di questi bambini hanno crescita sulla comunicazione verbale siamo partendo dall'ipotesi antica che le difficoltà potevano essere prevalentemente legate a delle anomalie laringee cosa che invece poi facendo una ricerca più specifica e anche in base a indagini strumentali ad esempio fibroendoscopie laringee che hanno quindi permesso di valutare che non c'è niente a livello degli organi fonatori però abbiamo notato che le difficoltà che rendono poi soprattutto nei bambini che comunque riescono ad arrivare ad avere una competenza comunicativa sufficiente abbiamo osservato che in una buona parte di questi ragazzini soprattutto in quelli di una certa età perché ricordiamoci che essendo una malattia rara risalendo non molti anni fa da questa ricerca effettuata abbiamo rilevato che più del 46% dei solo il 46% dei soggetti in realtà ha fatto un percorso logopedico di aiuto perché non si poneva attenzione invece al fatto che anche questi bambini potevano quindi avvalersi di arrivare a avere una comunicazione verbale che potesse aiutare nella relazione con gli altri quello che abbiamo visto è che quello che è il loro atteggiamento fonatorio è che una buona parte hanno la postura scorretta hanno una rigidità della muscolatura toraco-addominale hanno un ottacco vocale molto rigido hanno un'incorvinazione pneumofonica spesso una respirazione orale non corretta e alternata a quella nasale e il mantenimento anche in età adulta in 34% della fase orale della vendutizione tutto questo condiziona la coordinazione di tutto il sistema pneumofono articolatorio e quindi di conseguenza rende meno intellegibile il linguaggio anche dei bambini e degli adulti che hanno comunque una sufficiente comunicazione verbale quindi questi atteggiamenti scorretti e questa incordinazione vuol dire che deve essere osservata valutata e cercare di ricordinare il tutto nell'età evolutiva perché poi il bambino diventato adulto non mantenga alcuni assetti scorretti quindi bisogna iniziare a porre attenzione in età pediatrica e non aspettare e a vedere che cosa succede nel tempo quindi da questa ricerca proprio emesso che di cui poi ne parlerò in specifico perché a febbraio ci sarà un incontro sulle ricerche effettuate in ABC semplicemente quello che è visto nel contesto dell'argomento del linguaggio quindi anche in questa sindrome tutta una serie di alterazioni rilevate sulla voce e linguaggio sono in buona parte prevalentemente disfunzionali a una in coordinazione del sistema pneumofono articolatorio quindi è indispensabile proprio come detto un minuti fa precocemente prendere in considerazione le specifiche difficoltà per mettere in alto un adeguato progetto logopedico purtroppo ancora attualmente la presa in carico può essere tardiva frammentaria poi non sempre si trovano le strutture sul proprio territorio di residenza per poter fare un percorso di aiuto e di sviluppo e anche perché è molto importante sapere se capire dalla valutazione globale della comunicazione se siamo di fronte purtroppo a un bambino che avrà sempre grandi difficoltà alla comunicazione verbale e quindi pensare se è il caso di sperimentare altri percorsi comunicativi anche non verbali che anche questi non vanno attivati e provati quando il bambino ha 10-12 anni e non dice una parola dice vabbè gettiamo la spugna e come ultima spiaggia ci dedichiamo ad altro quindi indipendentemente dalla patologia di partenza il bambino che non possiede o possiede in minima parte linguaggio verbale o lo utilizza parzialmente soffre di una carenza della comunicazione per cui questo cosa comporta che nei gradi disabili si rischiano di sottovalutare le reali capacità cognitive a fronte dell'indaguatezza dello strumento verbale quindi questo porta delle conseguenze sugli aspetti anche non linguistici della comunicazione i bambini molto più di quanto noi crediamo sono coscienti del loro problema linguistico perché hanno difficoltà nel farsi capire e quindi a un certo punto arrivano persino a rifiutare a chiudersi a rifiutare anche la comunicazione quindi non dobbiamo aspettare più di un tanto di fronte un bambino che non riesce ad accedere alla comunicazione verbale teniamo presente poi che anche c'è una bella ricerca di Merabian statunitense tantissimi anni fa che ha fatto una valutazione sull'efficace qualità della comunicazione tra gli udenti tra gli udenti normodotati e quindi valutiamo che cosa che la comunicazione verbale sull'efficacia e la qualità della comunicazione ha un peso tutto sommato molto basso rispetto alla comunicazione paraverbale quindi modulazione che si intende per paraverbale la modulazione della voce la variazione di tono di ritmo pause e silenzi e la comunicazione non verbale la postura la gestualità da non confondere con i segni di quelle cose mani e capo l'espressione del volto e lo sguardo quindi questo per dire che anche per dare valore anche quello che non è la parola e dove abbiamo della difficoltà o il non accesso possibile dobbiamo comunque comunicare e quindi dare la possibilità alla comunicazione anche alle persone che non hanno il raggiungimento della comunicazione verbale quindi attraverso l'abilitazione adesso qui si utilizza abilitazione e riabilitazione con varie accezioni in genere abilitazione si considerano quella serie di interventi che aiutano a sviluppare delle o a sostenere delle sviluppare o aumentere e sviluppare delle nuove abilità che non sono state precedentemente acquisite mentre per riabilitazione si intende quell'intervento che serve si intenderebbe quegli interventi che ripristino abilità precedentemente acquisite cosa che nel bambino piccolo è più che altro abilitazione che abilitazione perché io sono ancora sviluppato il linguaggio non vado a riabilitare abilito il linguaggio ma convenzionalmente si usa i termini riabilitazione per intendere tutti gli interventi tecnici clinici educativi per favorire il disabile nel recupero nell'abilitazione poi nel recupero e nel mantenimento perché è anche importante la parola mantenimento perché noi una volta che abbiamo arrivati a una certa competenza comunicativa dobbiamo poi mantenerla nel tempo non è che siamo arrivati a quel punto e poi non ci lavoriamo più sopra già la dottoressa Medorago ha fatto cenno a degli stimoli che i genitori possono utilizzare nei confronti dei loro bambini che hanno un avvio difficoltoso al linguaggio verbale questo è un po' un sunto di quello che in realtà aveva già detto cioè che quindi al di là di pensare poi a quello che è lo specifico della abilitazione o riabilitazione noi nell'ambito familiare dobbiamo creare un clima adatto perché comunque noi dobbiamo sempre in prima fase puntare al discorso che se ci riusciamo se è possibile abilitare il bambino alla comunicazione verbale quindi creare un clima adatto alla comunicazione verbale quindi vuol dire parlare molto a un bambino che anche se questo bambino a sua volta non produce linguaggio dare il nome a tutti gli oggetti mostrarli accompagnare l'azione con la parola sollecitare l'uso della parola da parte del bambino facendogli capire che lo si sta ascoltare ascoltare l'intonazione del bambino perché da quello riusciamo a capire se il bambino fa una richiesta una dichiarazione guardare aiutare a capire il bambino osservandolo per aiutarci a capire l'intonazione comunicativa e proporre un modello di linguaggio che è assimilabile del bambino facilmente comprensibile si deve parlare di ciò che il bambino sta facendo udendo vedendo parlare evitando di usare singole parole usare frasi brevi ma appoggiate anche da gesti naturali ma è continuando quello che si dice continuando a ampliare quanto era già stato detto senza insistere se un bambino comincia a verbalizzare a fargli ripetere le parole è un modo perfetto perché il bambino si stoppa e non ti dice più nulla quindi magari la parola che noi gli abbiamo detto che lui ha compreso e che comincia a articolare te lo dice magari 15 giorni dopo improvvisamente incoraggiare il bambino a usare il linguaggio a usare il linguaggio quindi prima si era parlato della dottoressa Andralago della sillaba delle filastroche su questo poi quando io finisco penso che voglia dire qualcosa in merito perché l'aiutare il bambino a giocare con le sillabe le filastroche aiute il bambino sul ritmo e la melodia quella che sottesa il linguaggio e poi c'è la fase di espandere il linguaggio del bambino quindi se il bambino usa una parola singola la si ripete nella risposta inserendola in una frase per far capire al bambino che lo si è capito quando esprime una esprime qualcosa anche solo con un commento un'intonazione con una sola voce verbale ripeterla ampliando quando il bambino utilizza un linguaggio che è già presente ma è incompleto nella risposta lo si ampia senza mai come detto prima correggere il bambino e espandere i vocabolari del bambino perché è sempre utile inserire parole nuove in occasioni nuove e dando un nome alle cose e mai pensare di utilizzare comunque nella comunicazione solamente il piccolo vocabolario che il bambino di cui siamo sicuri che il bambino è in grado di ripetere questo qui lo posso saltare l'ho inserito ma lo trovate comunque facilmente a livello internazionale è stata scritta una carta dei diritti alla comunicazione per cui ogni persona indipendentemente della grado di disabilità è il diritto fondamentale di influenzare mediante la comunicazione le condizioni della propria vita quindi dobbiamo è diritto il nostro dovere mettere in atto tutti quegli interventi per coinvolgere le persone con le gravi disabilità a garantire quindi la miglior comunicazione possibile in base alla situazione qui la carta di diritto è lunghissima ve la potete io ho recuperato quella che è la traduzione italiana del centro Benedetta Dintino ma lo trovate tranquillamente in internet rispetto alla terapia perché se io ho un bambino che parla poco male o per niente diciamo che si sono un po' creati nel corso dei tempi due filoni principali un indirizzo terapeutico prevalentemente indirizzato all'orientamento verbale questo anche nell'ambito delle frequentemente capita anche nell'ambito delle persone sorde che devono essere avviate al linguaggio verbale per cui la meta finale della terapia è quella di portare il bambino avere una verbalità se non normale la più vicina possibile quindi il maggior peso nell'ambito educativo e evitativo viene dato alla comunicazione verbale quando il bambino arriva ad avere una situazione in cui la verbalità non procede o sembra improbabile che vada oltre lì ci si ferma e quindi questo comporta anche poi purtroppo l'idea che il ricorrere a modalità comunicativa verbale è proprio solo un'estrema risorsa e quindi modalità comunicativa e alternativa verbale vengono introdotte dopo che i tentativi di migliorare la verbalità sono falliti che abbiamo a che avere con un bambino poco comunicativo arrabbiato nei nostri confronti perché non riesce a farci capire e che quindi sta magari chiudendosi la comunicazione quindi quando vediamo che l'avvio alla comunicazione verbale è molto difficoltosa possiamo orientarci anche a pensare a appoggiarci ad altri tipi di comunicazione che non è detto che se portati avanti in parallelo all'educazione la verbalità non sostengono poi anche lo sviluppo della comunicazione verbale quindi è molto più utile avere indirizzare la terapia a un orientamento cosiddetto comunicativo per cui la meta finale è l'abilità a comunicare a un livello adeguato a soddisfare i bisogni comunicativi di quella persona il peso massimo della terapia viene dato lo sviluppo di un'adeguata abilità a comunicare e si conclude la terapia quando purtroppo oltre a un certo livello non otteniamo progresso della comunicazione questo non vuol dire che noi dobbiamo sospendere di sostenere la comunicazione magari anche minimale di quella persona e quindi si considerano in questo contesto le modalità comunicative a verbali come tecniche utili provvisoriamente o permanentemente a raggiungere un'adeguata abilità a comunicare provvisoriamente perché può capitare una situazione in cui la situazione può essere provvisoria perché non posso ad esempio usare il mio sistema pneumofono articolatorio che è una patologia in quel momento che mi colpisce ma posso usare una comunicazione alternativa magari usata al momento allora se dobbiamo scegliere una modalità comunicativa verbale dobbiamo cercare di fare per costruire un progetto dobbiamo prendere in atto diciamo dobbiamo tener conto di una serie di elementi quindi farci un po' chiarezza quindi qual è la causa del disturbo comunicativo come comunica il soggetto nell'attuale quali sono i suoi bisogni comunicativi perché non abbiamo solamente i bisogni comunicativi nell'ambito familiare ma anche nell'ambito scolastico sociale qual è il suo livello di linguaggio interno recettivo ed espressivo e vedere tra i vari sistemi comunicativi e verbali quale potrebbe essere più utile usare nel suo contesto ad esempio è inutile che io pensi è un sistema comunicativo verbale di tipo semico se quella persona non ha l'uso degli arti superiori o minimali quindi dobbiamo anche fare prima un piano dove poterci muovere quindi diciamo che i due filoni principali sono sulla verbalità il linguaggio dei segni e la comunicazione aumentativa alternativa ripeto che non bisogna pensare a utilizzare questi sistemi quando la situazione è arrivata il bambino è cresciuto non comunica in altro modo ma dobbiamo vedere se è possibile integrare questo tipo di comunicazione già molto precocemente allora il linguaggio dei segni è noi pensiamo al linguaggio dei segni in genere come la lingua dei segni utilizzata dalle persone sorde però anche nell'ambito della lingua dei segni dobbiamo fare alcune specifiche possiamo avere la lingua dei segni il segno rispetto alla semplicemente un segno che è sostitutivo di un fonema ad esempio io faccio questo segno che è la lettera A e tutte per tutte le altre lettere dell'alfabeto non è economico perché se dovessi con ogni segno una lettera non la finirei più di comunicare attraverso la teologia però può essere molto utile se io devo dire qual è il mio nome il mio cognome perché non esiste un segno corrispettivo alla lingua dei segni che lo rappresenti poi c'è la lingua dei segni la lingua italiana dei segni perché ogni nazione ha una lingua dei segni quindi questo si riferisce alla lingua visivo-gestuale che è propria delle persone sorde una volta chiamate sordolute quindi ogni stato ha una sua lingua quella italiana è la lingua dei segni italiana ha una modalità di comunicazione quindi visivo-gestuale e ha una propria grammatica e sintassi quindi questo può essere particolarmente utile nelle persone che hanno problemi di tivi gravi e che neanche con la protesi acustica o l'impianto riesce a accedere alla comunicazione verbale però abbiamo delle situazioni che possono essere applicate agli udenti che hanno che quindi sentono ma non riescono a comunicare verbalmente e che possono essere applicate rispetto alla lingua italiana vocale che può essere l'italiano segnato che utilizza mentre una persona parla in lingua italiana vocale contemporaneamente vengono fatti i segni che corrispondono alla parola detta ad esempio dico mamma intanto faccio questo segno che è il segno di mamma quindi un bambino che non riesce a dire la parola mamma può benissimo per indicare alla sua mamma a prendere questo segno che si riferisce quindi al corrispettivo della parola mamma e che quindi può avvantaggiare è chiaro che non è del tutto semplice articolare dei segni oppure si può usare l'italiano segnato esatto che è una che si utilizza dei particolari segni cosiddetti chiamati videnziatori che vanno a sostituire le parti che mancano nella lingua dei segni ad esempio una preposizione un articolo e che quindi vengono creati per poter aiutare il bambino soprattutto quando si passa all'apprendimento della scrittura quindi il linguaggio dei segni utilizzato nelle sue varie sfaccettature non è stato visto proprio e dimostrato anche con i bambini soldi non inimisce lo sviluppo della comunicazione verbale sia nei bambini sordi che nei bambini udenti può essere un facilitatore io ho avuto dei bambini con un gravissimo ritardo di sviluppo di comunicazione verbale che non potendo al momento avere un vantaggio sulla comunicazione verbale abbiamo inserito la lingua dei segni parlo di bambini udenti con gravi handicap anche cognitivi quello che è successo è che man mano che il bambino si appropriava i segni e riusciva a comunicare meglio con noi in contemporanea si sviluppava anche un linguaggio verbale seppur strutturato semplice ho visto che man mano veniva reinserita la parola e si perdeva il segno corrispettivo e quindi si ripassava e si utilizzava si dava privilegio la comunicazione verbale quindi questo per dire che se noi utilizziamo perché magari è il caso di quella situazione una lingua semica anche semplificata non è detto che questo poi possa essere in parte abbandonato e recuperare anche il verbale la questione è che non in tutti i casi è possibile usare il segno soprattutto bambini che hanno molte difficoltà di organizzazione motoria perché il segno è una combinatoria di diversi parametri per cui il segno deve essere fatto in un certo luogo dello spazio deve avere una configurazione della mano può essere una mano tutta aperta chiusa ad esempio può avere un orientamento perché posso avere la mano orientata così o così e anche un movimento quindi siccome sono dei parametri che costituiscono nella loro combinatoria che dà significato al segno che faccio bisogna valutare se quel bambino è in grado di di apprendere memorizzare e utilizzare poi quel segno anche questa è un'osservazione che ho fatto è che ho avuto dei bambini con gravi io parlo di bambini ad esempio con spastici di cui non mi è contenuto anche soldi di cui diciamo con con un certo dubbio di base abbiamo inserito la lingua dei segni perché avevamo altra possibilità e l'apprendere i segni quindi abilitarsi sull'uso della mano ha migliorato la postura e la motricità e il cammino di questi ragazzini quindi questo per dire quanto a livello qui mi deve così penso che Medolago sia d'accordo quanto il cervello poi riesce a integrare tutte queste informazioni e a ribilanciarle sui vari versanti per ultimo due parole sulla scusami Matelda ci sarebbero due domande giusto per non andare troppo avanti negli argomenti darei la parola se tu sei d'accordo a queste due famiglie va bene prima Manuela perché ho visto anche l'orario sì ok va bene Manuela io tanto comunque avrei finito devo dire solo due cose sulla comunicazione aumentativa alternativa ma non c'è problema ok io volevo fare solo una piccola domanda riguardo all'anteriorizzazione di cui hai parlato prima e cioè le consonanti posteriori che vengono prodotti anteriormente che cosa si può fare per ovviare a questo problema che è la problematica maggiore di Francesco e che è comune diciamo a a tanti bambini quindi il problema è che la per aumentare perché il problema è che la lingua deve andare indietro perché se io la lingua la porto in avanti e che quindi appoggio la lingua sul palato o sui denti o tra i denti i suoni tipo posteriore penso che tu intenda la ca e la ga ad esempio come suoni esattamente quei due lì ok vuol dire che la lingua deve essere portata indietro il problema è far capire al bambino o anche al ragazzo dove deve essere messa la lingua quindi ad esempio molto cioè se è collaborante ma Francesco mi sembra più che collaborante ti puoi mettere con lui di fronte a uno specchio prendere il manico di un cucchiaio fargli vedere la lingua che gliela spinge un po' indietro e intanto cerchi di fargli dire il ca tenendo la lingua portata indietro in modo che lui a livello acustico capisca che succede qualcosa di diverso che un conto è dire la stessa cosa con la lingua tutta in avanti e tutta indietro è chiaro che questo prevederebbe che per poter avere meno difficoltà con l'adulto nel bambino si facciano tanti esercizi sulla motricità bucolinguale e sull'organizzazione dei movimenti della lingua rispetto al palato alla faringe alle labbra anche attraverso il gioco più il bambino cresce più si diventa adulto più alcune modalità di articolazione diventano talmente interiorizzate acquisite come anche la postura cioè se io tendo a avere un certo tipo di postura tendo a a mantenerla nel tempo e quindi diventa più difficile correggerlo però anche qui devo dire che mentre una volta si diceva quando arrivi massimo all'età della fine scuola mentale il bambino non ha acquisito nulla basta poi non si fa più nulla invece sono convinta che anche nell'adulto sia possibile modificare questo ok grazie perché io quando gli chiedo di fare la lui fa aspirata così è come se facessi un è perché lui sta facendo il prodromo della della perché sta facendo il gargarismo praticamente facendo quel verso che tu hai fatto sta facendo un gargarismo che in effetti sarebbe la posizione quasi corretta però prova a spingergli un pochino indietro la lingua in modo da in modo che il dorso della lingua appoggi più possibile e soprattutto evitando che lui lo faccia perché molto volte noi emettiamo i suoni proprio perché c'è la rigidità del torace e della respirazione perché molti bambini col fiducia tendono a buttare fuori l'aria d'impeto se l'aria esce di impeto non facilita poi l'articolazione del fonema quindi bisognerebbe prendere tranquillamente l'aria e l'aria buttarla fuori lentamente e non buttarla fuori di botto nel momento in cui devo dire il fonema una lettera perché un conto che io prendo l'aria tranquillamente e dico ca un conto è difficile lo capisco un conto che io butto fuori come se molte volte nel registrare quando ho fatto la ricerca sulla voce facevano tanti va bene grazie prego ora c'è una domanda di Giuseppe Menisi Giuseppe sempre per me dottoressa grazie intanto della spiegazione io anticipo un po' la continuazione che le ho adesso sulla comunicazione che praticamente l'hanno proposta per mia figlia che ha quattro anni e mezzo si fa capire di tutto quanto però ho tantissime parole un attimo sento tutto frammentato non sento bene arrivo puoi ripetere grazie un attimo intente? sì allora dicevo hanno proposto la comunicazione aumentativa alternativa per mia figlia che ha quattro anni e mezzo sì non ha tantissima cioè si fa capire di tutto quanto però non ha tantissime parole nel suo bagaglio tendenzialmente però da quando stanno iniziando a utilizzare questa tipologia di comunicazione in realtà si sforza meno tendenzialmente a parlare non sento ancora un'altra volta si sforza a parlare giusto? si si sforza meno a parlare tendenzialmente pronto adesso mi sentite? sì allora si sforza meno a parlare sì a trovare parole nuove e perché adesso la sua attenzione è più focalizzata penso su questa novità questo modo di comunicare che magari è più facile sì infatti tendenzialmente una volta si sforzava comunque a dire la parola noi la aiutavamo naturalmente ma si sforzava a trovare la voce più vicina o comunque le lettere più vicine a quella che era la parola finale adesso invece tendenzialmente lo fa di meno perché sa che può andare a toccare la figura e noi capiamo quello che vuole dire quindi dobbiamo continuare su questa strada dobbiamo ritornare come stavamo facendo allora se la comunicazione della sua bambina è in notevole ritardo dobbiamo comunque presupponendo quindi di avere una capacità di una voglia di comunicare a questo punto vale la pena l'importante è che ogni volta che lei penso che stia facendo utilizzando delle figurine che sostituiscono la parola a questo punto cosa succede nel momento in cui lei indica o perché vuole comunicare con lei su quel determinato oggetto non lasciate quel piccolo spazio che vi permette voi di dire la parola se lei ha indicato la palla lei può dire palla o comunque può magari facendo finta di aver capito un po' meno bene qualcosa che può essere simile in modo che comunque venga comunque attirata sempre rispetto a quello che ha anche il supporto della comunicazione verbale devo dire che vale la pena comunque di poi si fanno dei punti nel corso della terapia ci si ferma un attimo si fa il punto della situazione e può capitare perché mi è capitato di vedere dei bambini che poi alla fine si è deciso che quel tipo di comunicazione non era proprio quello adatto a quella situazione specifica però conviene a questa età perché se lo facciamo troppo tardi diventa più difficile dovesse capitare che la sua bambina non acquisisca una competenza io non possiamo mai fare delle previsioni perché la medicina non è una scienza esatta purtroppo per cui poi noi tante volte ci diciamo ah non sarà più possibile poi magari dopo qualche anno vediamo che tutto è cambiato e quindi vale la pena di di provare tutte le varie modalità comunicative l'importante è che questa modalità comunicativa visto che stavamo appunto dicendo due cose sulla comunicazione aumentativa alternativa deve essere comunque espansa quindi deve essere non solamente utilizzato nell'ambito della seduta di terapia quindi non nella stanza solo della terapia ma deve essere espanso a tutto quello che è l'ambiente di vita e tutti i vari partner comunicativi in modo che effettivamente possa avere poi un'utilità sulla comunicazione ora siamo un po' bloccati dal discorso della non possibilità di fare tante cose per via del covid però in questo caso penso che la tecnologia vi aiuti volete comunicare con il seguo la vostra bambina o col terapista attraverso il computer è possibile comunque andare avanti a lavorare anche su questo tipo di comunicazione ma questo anche sul linguaggio quindi però l'importante è che questo strumento venga utilizzato in tutti gli ambiti in modo che veramente la bambina se ne approprii proprio veramente come una possibilità di poter comunicare le sue esigenze le sue esperienze in tutti i vari ambiti che adesso saranno quelli di casa purtroppo e non di più grazie mille gentilissima veramente prego Matelda se vuoi finire un attimo le deposite la domanda che ha fatto la domanda semplicemente nel senso che mi ha anticipato nel senso che la comunicazione aumentativa alternativa che è quel termine generale in cui si inseriscono quella serie di tecniche di strategie ormai anche molto tecnologiche che facilitano la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a usare il canale comunicativo cioè il linguaggio orale e anche a volte la scrittura non sono delle modalità comunicative che come detto due secondi fa il papà non imbibiscono lo sviluppo per quanto se questo è possibile anche della comunicazione verbale le ricerche fatte mi riferisco alle ricerche fatte dalla dalla onlus d'intino che si occupa in particolare modo di autismo indicano che evidenziano che a volte una volta acquisite la base della comunicazione alternativa aumentativa alternativa a un certo punto accedono anche allo sviluppo del linguaggio verbale e quindi deve essere proprio per questo deve essere precoce perché questo sostiene al di là della comunicazione verbale lo sviluppo cognitivo la comprensione e il pensiero e migliora anche alcuni problemi di comportamento del bambino che non riesce facilmente a comunicare con la parola e come ho detto prima al papà deve essere proprio usato nei vari ambiti poi che io utilizzi un sistema tecnologico sofisticato perché ho tutte le figurine e i disegni sul computer su un tablet o invece utilizzo finché la tecnologia non ci ha aiutato dei disegni avendo dei quaderni delle tabelle a cui fai riferimento e che mani si spandono l'importante è che deve essere utilizzato in tutti gli ambiti e non solamente e questo succede anche per chi fa la terapia del linguaggio verbale solamente nella seduta con il logopedista ma deve essere ripreso qualsiasi apprendimento riportato e rincalzato in tutti i vari ambiti quindi vuol dire gli ambienti educativi la scuola l'importante è che questa è l'ultima slide che deve essere fatta una valutazione quindi bisogna per valutare poi se si parte con un progetto di questo tipo e come l'intervento funziona la persona e le sue abilità comunicative quindi se ha voglia di comunicare quali sono le sue basi cognitive linguistiche motorie sensoriali quali sono gli ostacoli all'accessibilità alla comunicazione e quindi anche andare a ridurre e a mettere in atto opportunità rispetto alle barriere ambientali che purtroppo a volte ci troviamo di fronte io con questo penso di aver detto più o meno tutto saltando alcune cose ma il tempo è quasi finito forse devo rilasciare la parola dottoressa Medolago che va a dire forse due cose sull'uso delle sillabe mi pare sentiamo poi casomai riprendo d'accordo aspetta io voglio capire come togliermi adesso devo fare stop sì ci sono riuscita ci sono riuscita brava sentiamo domande poi eventualmente andiamo avanti sforeremo un pochettino pazienza va bene non ci sono problemi io posso rimanere tranquillamente quindi se potete rimanere voi possiamo andare sentiamo domande poi andiamo avanti benissimo c'è una domanda di Katia tocca a te grazie a tutti allora io sono la mamma di Miriam che è una bimba di un anno però vabbè in realtà dimostra di meno e Miriam l'è stata diagnosticata una ipocosia bilaterale di cui ha un orecchio una ipocosia bilaterale trasmissiva ora il consiglio che ci hanno dato è quello di fare dei lavaggi nasali e basta quindi noi ci chiedevamo se sono sufficienti questi puoi fare questo tipo di lavaggio questi lavaggi o se possiamo aiutarla facendo altro non so cosa ci consiglia lei e poi ci chiedevamo pure se a questa età se già possiamo consultare un foniatra perché Miriam lei adesso ci segue comincia a seguirci con lo sguardo comincia a seguirci con lo sguardo comincia lei emette dei suoni niente di comunicazione con noi che comincia anche a vedere noi perché in realtà Miriam è una bimba che è con noi in affidamento perché è stata un periodo in ospedale e poi in una casa famiglia quindi è con noi da cinque mesi quindi Miriam comincia a comunicare nel senso che ci vede ecco quindi ecco quello che ci chiedevamo maggiormente è come aiutarla per questa ipocosia trasmissiva che le hanno diagnosticato le hanno diagnosticato cosa ci può dire grazie allora rispondo io a questo punto allora diciamo che è molto frequente proprio per la situazione anatomica che ci sia del ristagno di catarro tra naso tuba di ostacchio e orecchio medio quindi in realtà la bambina sentirà un pochino ovattato dipende dall'entità di questa ipocosia trasmissiva i lavaggi nasali sono molto importanti a questa età qui perché comunque sia il bambino ancora non è in grado di soffiare autonomamente casomai aiutarsi anche perché il muco tende comunque a ristagnare eventualmente con quei piccoli aspiratori ce ne sono di vari modelli tipi che lei trova in farmacia e da vedere poi se questo muco che ristagna tra naso faringe orecchio e un muco molto denso magari valutare col pediatra se è utile anche aggiungere qualche piccola terapia farmacologica o qualche mucolitico qualche diciamo piccolo aerosol per vedere di rendere il muco più fudo e quindi più facilmente eliminabile diciamo che l'importante è che questa diciamo che questo poi man mano che il bambino cresce si possono fare anche terapie più specifiche però tenga presente che la tuba di ustacchio che collega l'orecchio con la faringe sia per la sezione atomica sia perché è vincolata dei muscoli palatofaringei tende poi man mano a aprirsi sempre più frequentemente perché attraverso la delutizione la vocalizzazione l'emissione della voce attiva la muscolatura che facilita l'apertura della tuba di ustacchio per cui se noi sbadigliamo o deglutiamo lei sentirà che cambia la pressione nell'orecchio perché la tuba si apre quindi l'attività della muscolatura palatofaringea che man mano il bambino attiva perché un conto è deglutire semplicemente il latte o una pappa molto morbida un conto è attivare la masticazione e la recutizione con cibi più consistenti attivano tutta questa muscolatura che comunque facilita l'apertura e la chiusura della tuba di ustacchio altra cosa che non sempre i pediatri dicono è che di non soprattutto l'uso del ciuccio il ciuccio facilita il ristagno di muco tra la tuba di ustacchio e l'orecchio per cui i bambini che usano tanto a lungo e anche per molti anni il ciuccio nei primi anni di vita hanno più facilmente otiti catarrali quindi man mano si cerca di ridurre l'uso del ciuccio grazie invece sul consultare uno specialista come lei in foniatra a questa età è ancora ma io direi che è precoce secondo me vale più la pena se c'è da consultare qualcuno di magari avere delle indicazioni da parte di un buon fisioterapista che si occupa di bambini molto piccoli perché tutte le funzioni maturano e si coordinano quindi lei faceva accendo mi pare al fatto che cerca con lo sguardo eccetera quindi attivare anche tutto lo sviluppo neuromotorio e psicomotorio è altrettanto importante rispetto al linguaggio quindi io non so se la se Medolago è d'accordo su questo no ha tolto l'audio eh sì eh sì tutto sommato vale la pena far convergere un pochettino alle varie attività o dipende anche dalle risorse locali c'è chi ha più disponibilità di logopedisti che ha più disponibilità di fisioterapisti e quello condiziona abbastanza gli interventi comunque sono d'accordo c'è da dire che i familiari possono fare comunque moltissimo in attesa di interventi più speciali più specialistici soprattutto se sanno che cosa fare perché sapere che cosa fare vuol dire poter intervenire poter modulare perché teniamo conto che un bambino l'ho calcolato se dorme dieci ore al giorno in una settimana a cento ore anzi novantotto ore di veglia e in quelle novantotto ore di impulsi di stimoli se ne possono dare moltissimi e se uno sa che cosa fare può fare moltissimo chiaramente non di testa sua sapendo che cosa fare con le indicazioni dei tecnici che hanno una specificità in questo campo io qua non so cosa ho fatto ma va bene va bene l'ultima cosa poi non voglio rubare tempo agli altri quindi siccome lei Miriam si chiama la nostra bimba lei fa solo fisioterapia e psicomotricità invece ci è stato detto che è più consigliabile in età prescolare ok sì sì adesso parlavo in senso generale rispetto all'aiutare un bambino nella comunicazione in senso lato la psicomotricità è un'attività anche di tipo educativo che ne ha fatto anche nelle scuole materne adesso qui nel primo anno di età si parla prevalentemente di fisioterapia ma anche in genere il fisioterapista ha delle competenze sulla su quello che può essere utile per facilitare la comunicazione la relazione e il contatto con il bambino cioè non toglie che se come diceva Medolago se non si sa bene o se il dubbio nulla toglie che uno possa interpellare uno specialista a volte può essere anche lo stesso pediatra che può dare delle valide indicazioni senza ricorrere alla specificità dipende dalle dalle competenze del percorso che ogni pediatra ha fatto nell'ambito della sua professione però in genere il pediatra di base o del consultorio ha comunque degli strumenti di valutazione perché si fanno ogni tot mesi dei cosiddetti punti di situazione di come sta maturando il bambino e quindi in questi diciamo controlli sono inseriti anche l'osservazione di come il bambino comunica o progredisce motoriamente dipende poi se per lei sono antifoniatri siamo pochi di neorossichiati un po' di più dipende come diceva il Samedo Lago quale figura specialistica riesce a trovare nel suo territorio a cui può fare riferimento poi ci sono i tecnici della riabilitazione che hanno un settore specifico però si collegano fra di loro quindi non è detto che il fisioterapista non possa fare anche interventi sul linguaggio viceversa purché siamo coordinati o che magari il fisioterapista lavora in varie situazioni con il logopedista magari della stessa struttura e che quindi si possono diciamo un po' avvicendare semplicemente per avere un incontro sui consigli su quali atteggiamenti e comportamenti comunicativi avere col proprio bambino certo mi sembra che ci fosse qualche altra domanda o vado avanti io Davide c'è la domanda di Gabriele di Bertulu sentiamo salve buongiorno noi abbiamo una bambina che ha due anni abbiamo visto sì l'hai visto prima di Rosa vestita praticamente lei sta iniziando a lallare fa qualche suono ripete qualche suono così e volevamo capire un po' quando dovrebbe iniziare in realtà il percorso di logopedia perché noi non abbiamo ancora ancora cominciato insomma in una struttura noi facciamo soltanto psicomotricità e fisioterapia e gli esercizi diciamo che ci ha dato la dottoressa Pedrinazzi però logopedia con un con un professionista non l'abbiamo ancora cominciata non so chi dovrebbe darci questo inizio insomma chi dovrebbe suggerirci quando iniziare non so se hai qualcosa da dire ma secondo me possono dire molto le persone che già lavorano con la bambina per rendersi conto se è il momento di intervenire o che comunque dopo portatela davanti allo schermo a vedere quello che vi presento perché forse c'è qualche cosa che le interessa Matteo dai qualcosa raggiungere ma dicevo che in genere proprio perché terapia logopedica vuol dire avere un bambino con un minimo di capacità di attenzione e di tempi di attenzione per cui in genere fin dopo prima dei tre anni assolutamente in genere non si propone terapia logopedica però può essere utile avere degli incontri periodici con un logopedista che può fare man mano un bilancio dell'evoluzione della comunicazione della sua bambina quindi non è detto che uno va dal logopedista solo per fare terapia perché può essere un momento utile perché può essere un incontro valutare il bambino in quel momento come la sua situazione di comprensione di produzione utilissimo perché il terapista può dare fare una terapia indiretta tramite i voi genitori e consigliare a voi che cosa puoi fare a casa o comunque se poi lei frequenta un nido o una scuola materna poi anche agli educatori quindi proprio per non perdere il tempo perché siccome purtroppo la realtà è che i tempi di attesa delle visite all'educazione sono molto spesso perché c'è c'è poco personale riabilitativo sul territorio in realtà e quindi conviene è come un po' mettersi in nota per cui nel momento in cui facendo non so sei mesi il bilancio della situazione il logopedista dice ecco questo è il momento per iniziare quindi è tranquillizzante per voi non porvi sempre la domanda del è utile farlo o non farlo io poi siccome ha detto che è seguito dalla dalla dottoressa Pedrinazzi se l'è la prima che vi dirà quando è il momento di iniziare su questo specifico grazie grazie che altro? non mi sembra che ci siano domande volevo sapere se Ron volevi intervenire tu ho visto che hai mandato un messaggio sulla chat sì buongiorno a tutti sì avevo solo scritto un commento perché anche Alice sta usando la comunicazione aumentativa e appunto abbiamo stiamo usando diversi diciamo strumenti con questa comunicazione proprio per diciamo supportare incentivare la comunicazione e nel suo caso diciamo che sta è qualcosa che le interessa e che per esempio utilizza anche all'asilo con gli altri bambini ha questo quaderno con delle canzoni filastroche scritte con la con questa comunicazione aumentativa e a volte lo usa proprio per diciamo leggere tra virgolette la filastrocca con i suoi compagni dell'asilo e quindi volevo solo dire questa cosa in realtà una piccola domanda se abbiamo un attimo di tempo voglio solo sapere se le dottoresse hanno qualche consiglio sulla chalorrea non c'entra proprio con il linguaggio però se hanno qualche consiglio su come migliorare questo problema deglutazione ma zocca allora lo stavo facendo di capire allora la chalorrea vuol dire che io ho poca tonicità della muscolatura buccale allora per ridurre la chalorrea bisognerebbe cercare di stimolare la bambina a fare perché perché c'è chalorrea in parte perché appunto c'è poca tonicità delle labbra che tengono chiusa la bocca e quindi permettono che la saliva non scappa fuori ma anche perché molte volte facciamo meno atti deglutitori perché noi deglutiamo nel momento in cui mangiamo ma deglutiamo anche spontaneamente la saliva quindi bisogna invitare ricorrentemente quando vedete che comincia a mettere la saliva dire alla bimba chiudiamo anche meccanicamente le chiudete le labbra e la la stimolate anche toccando il collo ma andare giù la saliva in modo che di attivare sempre più atti di glutitori in modo che la saliva faccia la strada giusta e non venga fuori l'altra cosa è fare tanti piccoli giochi per dare tonicità alle labbra quindi non so mandare i baci fare le pernacchie sputare in modo non so tenere tra le labbra un cartoncino in modo che le labbra restino chiuse sempre questo se la bambina per un'altra cosa da tener conto che non abbia magari qualche problema di tipo nasale perché molto spesso la scelloria è legata al fatto che respiro più dalla bocca che dal naso e non tengo le labbra quasi mai chiuse quindi è da verificare che la bimba respiri bene dal naso quindi questo non lo so semplicemente quando è un raffreddore tendiamo a respirare dalla bocca un bambino magari che non è temporabile all'igiene nasale a soffiarsi il naso quando il naso è tappato viene spontaneo che usiamo la bocca e quindi nel momento in cui teniamo la bocca aperta per tanti minuti per respirare non deglutiamo in quel momento lì e quindi la saliva tende a scappare anteriormente va bene grazie quindi posso andare avanti vediamo un po' allora quando ci si trova in un ambiente con forte inquinamento acustico o quando c'è un calo della sensibilità auditiva la soledità trasmissiva di cui abbiamo parlato prima la scansione sillabica viene spontanea te l'ho detto tante volte anche quando voglio essere un po' incisivo il maggiore indice di gradimento per la sillabazione io ho visto che si manifesta molto precocemente abbiamo visto che prima di parlare il bambino fa un'analisi dei suoni che sente e proporre il linguaggio sillabato lo aiuta in questo lavoro allora ho attinto alla elencazione di 1719 sillabe identificate in italiano il lavoro non è mio il lavoro è di Stella e Job che si sono presi la briga di andare a vedere che sillabe usiamo in italiano e ne hanno identificato una valanga io sono andata a scegliere quelle più utilizzate quelle più utilizzate che non sono le prime che si dicono e non sono neanche quelle che si leggono e che si scrivono sono quelle che usiamo di più e la sillaba in assoluto più usata in italiano è la sillaba di seguita da to la e via di seguito qui le ho elencate le manderò a Daniele davvero a disposizione però certamente non ve le sto a mostrare adesso allora abbiamo approntato una presentazione animata qui se ci sono bambini piccoli può valer la pena vedere se gli interessa perché dunque dovrei aver inserito le sillabe animate devo andare sull'altro allora no lo faccio dopo scusate vado avanti perché se no mi perdo abbiamo introdotto allora lo presento dopo lo presento dopo perché non voglio ricominciare da capo dove c'è prima il suono di compare la sillaba di e poi ripetuto di col metodo sandwich tanto per gli interdici quindi prima l'audio poi il video poi l'audio questo tipo di presentazione piace molto ai bambini che hanno difficoltà di discriminazione uditiva ma questo vale anche per le persone adulte sordi vale anche per chiunque abbia un problema di identificazione dei componenti della parola io ho visto che così sull'esperienza perché l'ho visto su qualche centinaio di bambini non solo con la sindrome del crudisha ma con altre sindrome e altri problemi che l'interesse per la sellebazione è molto alto prima di imparare prima di avere di avere la comprensione delle parole perché allora poi si sposta sugli oggetti sulle immagini lo si può riproporre allora l'analisi fonetica si può riproporre con indovinello allora dov'è fammi vedere la mano e il bambino indica la mano tocca il naso e il bambino tocca il naso è un gioco che ai bambini piace molto piace molto sia in fase di comprensione sia quando devono accedere alla lettura la capacità di fare un'analisi fonetica di questo tipo favorisce moltissimo l'apprendimento della lettura perché a mano a mano che un bambino decodifica i simboli li trasforma in suoni e riesce a identificare la parola un pezzo vicino all'altro se io leggo m a n o non capisco niente se io leggo ma no è intuitivo che ho detto mano quindi si possono proporre singole parole proprio giocandoci dove la mano dove la testa o va bene mano che sono due sillabe semplici ma va bene anche testa va bene anche corpo vale a dire l'importante che siano due emissioni vocali non che siano due combinazioni consonante consonante vocale come mano come mano perché l'importante è quanto emissioni di voce come la sillaba strano sono due sillabe va bene anche se strano è una sillaba maleditamente complessa quando il riconoscimento è consolidato quello di due sillabe si passa a tre sillabe sembra banale ma quando io dico al bambino di indicare i vari oggetti e poi davanti al tavolo gli dico tavolo qualcuno si trova in grafica di difficoltà perché due sillabe dovuto mettere insieme deve fare il lavoro di passare alle tre sembra banale ma è un passaggio dopo poi si passerà anche alle polisillabe via di seguito quello che conta non è come ho detto prima la complessità delle sillabe ma il loro numero quindi l'ho già anticipato indipendentemente dall'età la scansione sillabica aiuta nella discriminazione uditiva nell'articolazione fonologica perché quando uno ha un modello corretto lo può ripetere e nella comprensione della lingua per l'italiano poi in modo particolare chi ha difficoltà l'ho accennato prima chi ha difficoltà di articolazione tende a produrre un nellocchio spesso poco comprensibile i familiari lo capiscono gli altri no se ha una buona capacità mimica integra ma è fondamentale che la frase sia strutturalmente corretta in modo che la comunicazione possa essere adeguatamente recepita chi ha difficoltà di linguaggio tende a contrarre a contrarre le parole a contrarre le frasi quindi omette articoli congiunzioni vedi seguito e a volte anche contrae le parole per cui il rischio è veramente incomprensibile e saltano un sacco di pezzi allora l'interesse per le sillabe scritte animate che dopo vi farò vedere ricompare cioè compare in prima fase in fase chiamiamola prelinguistica se vogliamo comunque in una fase in cui il bambino sta analizzando i suoni e quindi ha uno strumento per analizzarli meglio ma ricompare quando ha accesso all'apprendimento della lettura proprio perché può essere uno strumento di apprendimento di decodifica ci sono appunto studi non miei che dicono che il riconoscimento fonetico delle parole scandite può facilitare l'apprendimento anche della lettura ma questo verrà dopo in fase di stimolazioni verbali può valer la pena provare sia con la scansione sillabica che con il linguaggio in generale a bisbigliare perché il basso tono di voce sollecita l'attenzione mentre noi tendiamo per attirare l'attenzione e alzare il tono di voce e a volte ci sono bambini che hanno sensibilità uditiva marcata non so se è nelle tue esperienze Matelda comunque il bisbiglio sollecita l'attenzione a volte ci sono bambini iperattivi che sembra che non ascoltino mai però quando diciamo qualcosa sottovoce sperando che non ascoltino intervengono va bene siamo d'accordo siamo d'accordo siamo d'accordo lo stesso è il problema lo stesso problema c'è lo stesso interesse per la sillabazione ci può essere per tutti quelli che hanno appunto problemi di discriminazione uditiva e va bene e vale la la sillabazione la scansione pesata può essere utile anche per chi è in un ambiente inquinato o per chi per gli stranieri per gli stranieri che devono avere una percezione corretta delle parole altrimenti le perdono quando io sento un conferenziere che parla inglese faccio fatica a seguirlo ma se il conferenziere è spagnolo o italiano lo capisco molto meglio perché scandisce l'inglese come lo capisco io e non come se lo mangiano gli inglesi o gli americani allora tornando ai bambini fin dalla prima infanzia è opportuno rafforzare la sillabazione abbiamo detto che la sillaba costituisce l'unità del linguaggio umano la sillabazione rende più chiaro dell'occhio e facilita anche la comprensione della lettura e va bene qui c'è un altro discorso quello delle filastrocche ai bambini piacchia ascoltare e riascoltare all'infinito le stesse cose le stesse frasi finché le memorizzano i bambini sono degli studiosi quando un bambino ha un libro che gli piace e vuole che glielo leggiamo regolarmente e vuole che glielo leggiamo esattamente con le parole che devono essere sempre le stesse è che lo sta studiando lo sta imparando a memoria quando l'ha imparato per benino non ce lo chiede più e se anche glielo proporziamo ci preferisce qualcos'altro perché ormai il lavoro di studio di conoscenza lo ha lo ha fatto e una un grosso strumento linguistico sono le filastroche che sono presenti più o meno in tutte le culture che da sempre sono utilizzate per sollecitare l'ascolto a volte quando sono cantilenate servono anche per tranquillizzare o per conciliare il sonno e allora passiamo alle nennananne che enfatizzano la prosodia la caratteristica è una cadenza ritmata ripetitiva e la ripetitività sappiamo che concilia il sonno con le filastroche possiamo alternare torniamo indietro ho fatto una fuga in avanti si alternano funzioni cadenzate va 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 con altre si lavate in cui si scandisce bene Daniele siamo senti quasi quasi in mezzo sono qui e forse mi metterai a fare due o tre cose in modo che così lunedì non sono costretto a ritornare stiamo sentendo da fare una spedizione fare un pacco inizia alle quattro sappiamo che lunedì sei impegnato non ci sta ascoltando ok va bene e non dovrebbe durare tantissimo nel senso che la Carlotta dopo che ha parlato 45 minuti metti massimo massimo un'ora poi si fa le domande però dovrebbe finire abbastanza presto oggi allora se la filastroche è cadenzata con rime merita corretta è meglio e io vi cito questa questa è una filastroche della mia infanzia io vengo da una famiglia numerosa quando l'ultima delle mie sorelle imparava a parlare io sapevo già leggere e scrivere avevamo un libro di filastroche e lei me le chiedeva quella che secondo me era di un'idiozia abissale a lei piaceva da morire tanto che l'ho memorizzata e me la ricordo ancora adesso è passato qualche anno ed è la baglia della lella la vuol vestir di lilla puntarle con la spilla la gala sulla spalla ci sono delle rime ci sono c'è una scansione c'è una metrica corretta è una ripetitività ma sono tante silabe molto simili fra di loro io adesso a distanza di tanti anni comincio a capire perché a mia sorella piaceva tanto questa filastrocca non la leggo tutta la mando a Daniele se volete gliela potrete chiedere viene sollecitata la discriminazione tra suoni molto simili fra loro la baglia della lella la vuol vestir di lilla se la filastrocca viene scambita sillaba per sillaba i livelli di attenzione nei bambini più piccoli aumentano notevolmente se ci sono altri bambini in casa saranno degli ottimi ripetitori perché la imparano prima e poi la ripetono e la ripetano loro quindi vale la pena anche giocare su questo se abbiamo giocato all'ascolto di filastrocchie abbiamo notato che ci sono delle particolari preferenze utilizzeremo le filastrocchie preferite per riproporle con una modalità nuova vale a dire tronca la baglia della lella la vuol vestir di lilla puntarle con la spilla la gala sulla spalla viene abbastanza istintivo completarlo allora nella mia esperienza ci sono bambini che collaborano e completano altri che fanno una bella risata e aspettano che io gliela completi allora lì vabbè il gioco non funziona si possono anche utilizzare le filastrocchie in dialetto in qualsiasi altra lingua purché se ne abbia un'adeguata padronanza se io do una filastrocchie in una lingua straniera devo però avere una pronuncia corretta non posso usare una pronuncia storpiata però c'è da dire che molti stranieri che abitano in Italia si ricordino che possono benissimo attingere alle loro culture alle loro filastrocche alle loro nini alle nonne alle loro ninne e nanne perché questo non solo è autorizzato ma permette al bambino di crescere bilingue e poi adesso ci arriviamo studi sul bilinguismo farebbe ipotizzare che le fasi di apprendimento siano particolarmente importanti per la plasticità delle strutture cerebrali deputate all'apprendimento del linguaggio vale a dire se io lavoro su una lingua sola faccio un lavoro a livello a livello cerebrale delle zone deputate all'analisi del linguaggio in particolare dell'emisfero sinistro ma se lavoro su più di una lingua il bambino fa un lavoro di plasticità molto maggiore quindi diventa tra virgolette più intelligente se vogliamo ci sono studi sempre sul bilinguismo che inducono a ritenere che l'esposizione precoce del bambino a più lingue comporti un maggiore sviluppo delle zone cerebrali corticali specializzate nelle funzioni linguistiche una lingua imparata precocemente è come si suol dire una lingua madre mentre una lingua imparata la mia età posso ancora impararla a parte il fatto che faccia una fatica dell'altro mondo ma in realtà si mantiene poi l'impostazione di quello che è il mio linguaggio di base di partenza mentre un bambino che cresce bilingue ha l'impostazione che è esattamente quello della lingua giusta o senza rendercene conto molti di noi sono bilingui fin dalla prima infanzia perché chi è cresciuto in un ambiente dove si parla dialetto non c'è mai pensato ma in realtà il dialetto lo possiamo considerare come un'altra lingua e se ci sono nonni o persone che parlano ancora il dialetto non perdiamolo è un patrimonio culturale che ormai andrà all'UNESCO ma intanto cominciamo a coltivarlo nel nostro orticello è un arricchimento tenete conto che un bambino può imparare se non a pronunciare a capire l'italiano e un dialetto senza tanta fatica in pochi anni di vita più avanti se uno vuole imparare una lingua straniera impiega molto più tempo e molta più fatica allora non c'è dubbio che una lingua sola richiede meno tempo e fatica ma se ne impara una sola non solo è vero che l'esposizione a più di una lingua qualche volta può creare problemi allora quando i genitori sono di lingua madre differente è opportuno che se non sempre almeno che ognuno dei due parli la propria lingua perché allora è sicuro che la parli in modo corretto oppure se io posso ho una buona conoscenza del francese e non dell'inglese voglio far parlare in francese il mio bambino prenderò il librino francese prenderò un momento in una cornice dove è chiaro che cambio registro e allora posso propogli una lingua straniera purché sappia di conoscerla bene altrimenti beh è meglio non buttarsi l'ideale è che persone di lingue differenti le parlino ognuno la propria per il bambino è molto più facile istintorizzarsi sulla lingua di Caio o su quella di Tizio piuttosto che dover mettere ordine spontaneamente su diverse informazioni che gli vengono dalle stesse persone se gli vengono insieme deve discriminarle se gli vengono separatamente sono già contestualizzate quindi molto più facili da catalogare da organizzare un discorso a parte merita la lingua inglese perché perché è una lingua estremamente semplice semplificata diciamo che si parla in tutto il mondo allora è semplificata sia come articolazione sia come struttura sintattica sono frasi molto semplici quei periodi complessi pieni di incisi come hanno i tedeschi gli inglesi gli ignorano completamente danno tante piccole frasi una dopo l'altra e sono molto più chiari e incisivi anche il linguaggio è meno articolato e quindi più facile allora a volte purtroppo a scuola soprattutto si adesso si tende a anticipare con giochi con attività varie anche l'accesso all'inglese dei bambini più piccoli però il rischio è che quando un bambino ha già delle difficoltà di linguaggio si tenda a escluderlo dall'apprendimento di altre lingue no si tratta di propordila in ambito in ambito corretto vale a dire in un contesto in cui è chiaro che è un'altra lingua ma anche perché un bambino che parla poco non sappiamo quanto capisce è probabile che capisca molto di più e che quindi possa benissimo introiettare e immagazzinare informazioni e linguaggi diversi ah ecco questo invece è un gioco che io ho fatto per in fase questo può favorire il linguaggio può favorire il favorire anche la lettura allora che cosa ho una sillaba pa un'altra singola sta cosa è venuto pasta e mi viene la parola intera e poi chiaramente ci vuole un rinforzo visivo questo è uno di questo genere ce ne sono poi tante tipo no c'è che cos'è noce arriva la noce e poi dovrebbe arrivare la noce ecco allora questa è una cosa che ad alcuni bambini piace molto può servire sia come stimolo alla ripetizione qui manca l'audio devo dire la verità mentre sull'altro che vi farò vedere tra un istante c'è anche l'audio con la possibilità di ascoltare le sillabe qui ci vuole invece un interprete perché non ce l'ho messo ma potete alluggerlo voi allora pizza e mi viene la pizza ecco qua la pizza e alla fine mi viene la pizza dove è andata a finire eccola qua non è molto bella ma insomma pazienza fuoco e via di seguito fuoco e poi c'è un fuoco eccetera quando cercando queste parole ho cercato la parola la pizza mi è comparso prima due signori che si cambiavano mazzette non andava bene poi mi è comparso qualcun altro che aveva un po' di barba non andava bene alla fine ho trovato anche un berletto comunque adesso questo non ve lo faccio vedere io chiudo questo e vado a presentare invece le sillabe le singole sillabe no dunque qua per chiudere questo cosa devo fare stop share sì stop share poi torniamo a share screening e andiamo a cercare dove sono le sillabe le avevo eccole qua allora alzate il volume se no non si sente niente tutto bene qua si to to la la e allora presentando questo c'è stato un bambino che mi ha contestato moltissimo questo e perché mancava la seconda componente finora aveva visto comparire due elementi e qui mancava il secondo sì sì allora vi ho mostrato le cinque sillabe più usate in italiano adesso vediamo se ne ho aperte anche delle altre ho paura perché non parte sì sì la la e e do do vi vi allora che cosa avete visto le stesse cinque sillabe presentate in un ordine diverso con un'animazione differente in modo da apparire una cosa diversa in realtà qui le sillabe però sono sono entrate intere è molto più importante giocare su questo tipo di presentazione che non su quello di lettere separate la presentazione delle sillabe a lettere separate ha senso al momento in cui uno ha accesso alla lettura perché allora può analizzare com'è costruita in realtà per quanto riguarda l'apprendimento del linguaggio e l'attenzione cosa che io cioè per me è massima l'attenzione di bambini entro il primo anno di vita o comunque quando stanno imparando a parlare stanno elaborando la catalogazione e l'analisi dei suoni dei fonemi e quando l'hanno acquisito gli serve di nuovo per imparare a leggere quindi a ricostruire le lettere qui se volete posso andare avanti perché su questo ho fatto cento su cento sillabe abbiamo fatto le presentazioni e ogni cinquina ha cinque presentazioni diverse ma ve li risparmio mi sembra così di aver dato un'idea generale so che adesso l'ABC ce l'ha già quindi non te lo mando mentre ti manderò l'altra presentazione la presentazione delle diapositive va bene? va benissimo bene grazie dell'ascolto allora anch'io ho dato ho mandato a Daniele le diapositive di oggi per cui siccome alcune le abbiamo viste di fretta se qualcuno se le vuole recuperare le chiede a Daniele ok? sì in questo momento stiamo montando tutti i corsi le registrazioni di tutti i corsi e poi invieremo una email a tutte le persone che si sono collegate e a quelli che ne hanno fatto richiesta invieremo il link alla nostra pagina YouTube dove ci sono tutti i corsi registrati insieme alle diapositive in modo che chi vuole rivedersi tutto può farlo tranquillamente grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.